Tutto ha un senso, miei cari spettatori e miei cari spettatrici. La canzone nel pre-live non è mai cantata a caso, non è mai scelta a caso. Qualcuno scriveva spoiler in chat e ha ragione, ma ne riparliamo dopo, quando faremo entrare l'ospite. Intanto, buonasera a tutti, bentrovati! Che bello vedervi qua con me anche stasera per l'ultima puntata di Out of the Box. Ciao Fabio, ciao a Bokemono, ciao a Tania, ciao a Silvia, ciao a Elizzico che ho visto anche, anche Niten80 e Ramon Colombo, ciao, ciao, ciao! Ciao a tutti, super pronti, ho letto che qualcuno ha anche una domanda stramba già in tasca, vedremo che cosa uscirà. Audio e video che è, grazie mille Tania, spoiler nel senso che ci sarà qualcosa di sconcio, no, o Bokemono o per gli amici ormai o Makebono, no, non ci sarà qualcosa di sconcio. Fabio aveva la domanda, ecco, Fabio aveva la domanda, chissà, dopo se avrò modo di fartela fare, sicuramente, avrò modo di fartela fare. Ragazzi, mi sono accorta adesso che lì c'è un buco e il buco mi dà fastidio, devo coprire il buco della tazza. Serena, vai sopra, per favore, ecco, meglio, meglio, perché se no c'era il buco, scusate, il Sheldon Cooper che è in me doveva tappare il buco. Se no, qualcuno potevamo perderlo e passava l'intera serata a guardare solo il buco sullo scaffale. Ehm, pensavo volessi lasciare il buco sotto, no, e sotto c'è la, c'è la tazza di Troy and Javed in the morning, per chi ha visto Community. Ma in ogni caso, qua l'atmosfera è caldissima, io e l'ospite che è dietro le quinte stavamo facendo già dei discorsi fighissimi e quindi siamo arrivati in live qualche minuto prima perché, perché sì, perché era importantissimo, cioè c'era troppa roba di cui stavamo chiacchierando e abbiamo detto, vabbè, andiamo in live, se no ce la facciamo tra di noi e invece si gira e cerca l'ospite. Fabio, cosa stai facendo? E invece in questo modo ne chiacchieriamo subito tutti insieme, perché mi sa che ci saranno un sacco di cose da dire in quest'ultima puntata di Out of the Box. Vi è piaciuto questo format? Io penso proprio di sì, sono molto contenta io di queste quattro puntate, davvero, davvero belle e soprattutto, ciao Mister Simo, ben arrivato! Chissà chi vincerà la gara delle domande veloci? Chissà, chissà, vedremo, vedremo, vedremo. Nel frattempo cambierei schermata e farei entrare finalmente l'ospite, quindi aspettatemi qui. Intanto Dungeon Dice, giochi da tavolo, giochi di ruolo, accessori e libri game. Ed eccoci qui con Alan, buonasera Alan. Ciao, ciao a tutti. Intanto fateci sapere subito se sentite Alan, come lo sentite, se lo sentite bene. Buonasera ospite, già scrivo. Buonasera, buonasera. Si sente, perfetto, ottimo. Fantastico. Perfetto anche come volume, che dire. È Piff, ti dicono già in chat. Te l'avevano mai detto che assorigli a Piff? Mi hanno dato, no, mi hanno dato del Brunori in realtà, molto spesso mi hanno dato del Brunori. Oh, Brunori Sass, attenzione. A proposito di musica, ma vabbè, ne riparliamo, ne riparliamo. Con lo sfondo in tinta grafica, esatto, hai visto Silvia? È lo sfondo dello stessa tinta della schermata di Out of the Box, è perfetto. Volume e faccioni, ok, perfetto, grazie. Qualcuno già sta notando anche il quadro che hai vicino, sulla tua destra, non a caso è nero, attenzione. Ah, ok, ok. Metà, ma già si capisce, la mia destra, ok. Eh sì, qua è tutto, siamo tutti specchiati, è tutto un caos, è tutto un caos. Ma io non so se voi sapete quante cose fa e ha fatto Alan all'interno del settore di cui chiacchieriamo sempre, perché siamo sempre qui a chiacchierare di questo settore di giochi da tavolo, di giochi con miniature, perché Alan non solo illustra giochi da tavolo, ma fa anche le miniature. Che è una cosa intrigante, particolare, esatto. Anche perché di solito gli illustratori siamo, ce ne sono molti conosciuti, dai fumetti alle illustrazioni, ma lo scultore ancora non è poi così conosciuto, tanto che adesso gli illustratori nel gioco da tavolo stanno acquistando il loro nome nella copertina. Cioè pian piano hanno sempre lo spazio insieme all'autore del gioco, con dei simboli proprio, la rotella per l'ideatore del gioco e il pennellino per l'illustratore, hanno acquistato valore, tanto che finisco in copertina. Però gli scultori ancora, sembra che le miniature si fanno da sole, quindi io porto oltre il vessillo dell'illustratore, cercherò di portare il vessillo dello scultore, che è una persona che grazie agli ultimi tempi sta acquistando sempre più valore all'interno del nostro mondo. Vedi, invece c'è il mister Simo che poi dice che invece nei giochi lui cerca sempre l'illustratore, perché ha pari peso al designer, secondo lui. Non si scappa, dice il mister Simo. Questa è tutto un... Ci ha fatto pure una conferenza su IDAG al tempo, all'incontro tra autori dei giochi su questo discorso. Ma anche perché anche gli autori stessi dei giochi in realtà... Mentre nei libri magari uno sceglie il libro anche molto seguendo l'autore, cioè tu sei fan di quell'autore, succede anche con i giochi, ma molto più raramente. Oddio, sì. Noi abbiamo la fortuna, come illustratori, che riusciamo a colpire, a essere letti in un'immagine. Quindi il primo impatto è sempre il nostro, l'apripiste. È come un po' per i libri la copertina, se non si giudica un libro della copertina, ma aiuta. Ma l'occhio vuole la sua parte. Però sappiamo meglio di me che se i disegni sono belli, ma poi il gioco è terribile, rimane sullo scaffale, perché comunque tu prendi un prodotto che è il gioco, per usarlo, non per tenerlo in... Certo, assolutamente. ...se hanno già troppi dentro la Kallax a prendere la polvere, quindi... Hai sentito Tania, ha detto la Kallax. Alan è della tua squadra, perché c'è stata tutta una discussione su come si pronuncia il Kallax, la Kallax. Io dico che si pronuncia il Kallax, siamo anche andati a cercare in realtà, e siccome è uno scaffale, è in realtà il Kallax. Ma è anche una libreria? Sul sito di Ikea mi sa che lo chiamano il Kallax, se non sbaglio avevamo fatto proprio questa ricerca. Ok, quindi vince il Kallax. Va bene, però la mia è... Però Tania continuerà imperterrita a dire la Kallax non si arrenderà mai, e infatti ti manda baci in chat, dice Alan, uno di noi. È una sfida che continuerà perenne, secondo me. Lo Kallax, dice Obakemono, per tagliare la testa al toro, esatto, via. Va bene così. Già in moto che chiamiamo, ormai che chiamiamo un pezzo di arradamento, grazie al marchio famoso svedese, che chiamiamo i pezzi di arradamento come nomi, già ci dobbiamo preoccupare. Già, esatto, già come sta Billy? Tutto bene oggi? Come stanno i miei libri di cui porti il peso? Ma dov'è quel vestito? L'ho appoggiato sulla poang. Io sarei curioso di essere... Cioè, vorrei essere svedese per vedere poi cosa veramente significano, e quindi loro magari useranno nel loro uso comune nomi che loro conoscono, ma tipo... Pensa che ho scoperto recentemente, perché ho conosciuto dei ragazzi che facevano quest'estate un centro estivo qui a Roma, tutto a tema GDR, tutto a tema Dungeons & Dragons, e quindi era una vera e propria ambientazione. E loro, per nominare tutte le cose, sia i personaggi, sia i luoghi di questa ambientazione, utilizzano i nomi di Ikea, perché è una roba infinita, e quindi la cosa che mi faceva più ridere è che tipo uno dei cattivi, più cattivi della storia di questa ambientazione era proprio Kallax. e quindi faceva molto ridere questa cosa, che trovo geniale, tra l'altro. Io mi ricordo anche che c'era una specie di questionario in cui dovevi scegliere se il nome che ti appariva era un nome di un mobile dell'Ikea oppure un medicinale. C'era questo giochino. Oh mio Dio, lo bellissimo! Non so, non mi ricordo questa reminescenza, visto su internet, puoi fare questa specie di test, per vedere quanto eri bravo. Bellissimo, lo devo trovare. Ragazzi, segnatelo, se lo trovate, se lo trovate mandatecelo su Telegram, perché io lo faccio di sicuro, per forza. Io ho visto un giochino simile con i nomi del Signore degli Anelli e i medicinali, ma come? Si, mi ricorda che è quello, mi ricordo. Callo per gli amici ama le chiamate. Mister Simo è caldissimo stasera. C'abbiamo tutto uno staff noi di fredduristi anonimi, anzi, senza anonimi, nomini proprio. Ciao Tortellino, ben arrivato e ben arrivata anche a Steph Kirian. Ben arrivata, benvenuta, grazie. Grazie di averci seguito. Ciao gente, ciao gente. Il dramma è che se sbagli a montarla quando arriva a casa e la monti al contrario ti tocca chiamarla Xallac. Ok, ecco l'altro freddurista, anzi il capo dei fredduristi. Ma in ogni caso, in ogni caso, spoileriamo subito questa cosa che io già ho spoilerato nella canzone. Perché Alan ha lavorato, non solo fa un sacco di giochi che voi conoscete e non sapete che li ha fatti lui sicuro, ne sono certa di questa cosa, ma ha collaborato anche alla seconda giusto stagione delle Winx. Sì, esatto. Non fate quella che sta su Netflix adesso, proprio le Winx, il cartone animato. La prima, non dico stagione, la seconda stagione della prima formula delle Winx come cartone animati. In realtà è stato uno dei miei primi lavori pagati e da professionista, perché io in realtà nella seconda stagione ero colui che faceva il background. Alla fine, quando tu fai un cartone animato, ci sono tantissime persone che ci lavorano e ognuno è specializzato a un determinato settore. Quindi c'è chi fa solo le animazioni, chi fa solo i props, che sarebbero gli oggetti di scena. In questo caso io ero addetto a fare le scenografie. Quindi come primo lavoro realizzavo, io in realtà non ho mai disegnato una Fatina, non ho mai disegnato una Winx. Io ho fatto sempre paesaggi, sempre vuoti, totalmente vuoti, però mi ricordo che una delle prime è stata una grotta dove si faceva male uno dei ragazzi delle Winx dove cadeva. Ah, quindi io poi dopo, erano altri tempi, si parlava nel 2002 circa. Solo che dopo non c'era adesso tutto in streaming come al tempo, quindi ho fatto fatica anche a recuperarle e le ho viste solo in tv. Non ho poi, non più, non sono più andato a scaricarle. Però il mio nome è presente nei titoli di coda di ogni puntata, quindi... Dai, devo per forza rivedere questa cosa. Anche perché non lavoravo a tutte le puntate, però dopo i credit erano fissi in tutte le puntate, i stessi credit per tutti la stagione. Solo che era un po' frustrante, io ho lavorato a quello e poi dopo ad altri cartoni animati per tipo tre, quattro anni, dopo un po' questa idea di essere comunque un personaggio che era dentro un'azienda di un progetto più grosso, sentivi poco autore. Dopo tutto il tempo mi sono un po' stufato, è stato divertentissimo, però dopo tre, quattro anni a fare solo scenografie di vari cartoni, perché finito un progetto e incominciavo un altro e ho detto, no, guarda, vediamoci poi intorno cosa c'è di altri... Certo, perché in quel caso comunque non è il progetto tuo, è una sorta di collaborazione, lì non risulti come l'autore delle Wings. No, ma è giusto anche così, cioè noi dobbiamo essere dei perfetti artigiani che stanno dietro un art director... Chiarissimo, certo, come si lavora, insomma, nelle case anche poi di produzione televisive, non solo, ma anche quelle poi cinematografiche, immagino, presumo. Sì, sì, sì. Cioè è tutto un altro tipo di lavoro, però è divertente pensare, uno dei miei primi lavori è stato con le Wings. No, ma è, come dire, è stato fortunato anche perché io sono romagnolo, esattamente tra le Marche e la Romagna, infatti da noi ci chiamano i Marchignoli, perché siamo un ibrido, dove fanno le Wings e nelle Marche, a Recanati, quindi ho avuto i contatti tramite la scuola, al tempo la scuola professionale di fumetto che facevo, a Iesi, e quindi il contatto è stato facile. E quindi mi sono portato avanti questa cosa per anni, però è stato comunque molto divertente perché cominci già con un progetto, anche se sei un piccolo ingranaggio, ma in un grande progetto. È un progetto enorme, certo, poi che appunto dopo 20 anni se ne parla ancora, infatti c'è Dancefloor che è super esperto di parchi, di parchi a te, ma che chiede se hai fatto qualcosa delle Wings anche dentro Magicland. No, 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 dopo io in realtà vi parliamo del 2002, quindi era la seconda stagione, quindi stavamo lavorando la seconda stagione, che già aveva avuto successo, però dopo è diventato quello che è musical, il resto. Io, bene o male, poi dopo comunque, e non è proprio il mio target, le Wings, non è che in questo caso, come in altri settori, io poi andavo a vedermi tutte le puntate. Già, quei cartoni dopo, invece, ero una gran appassionato, perché dopo sono passato ai cartoni animati di Ratman, e lì è stata tutta un'altra cosa, perché lo leggevo veramente dai primi fumetti autoprodotti, le Ortolani, e quindi quando mi hanno detto vuoi fare il fumetto di, vuoi fare il cartone animato di Ratman, dove devo firmare? Sì, sì, ma la cosa più bella è che ricevevo tutte le sceneggiature in anticipo, perché giustamente per fare le scenografie mi mandavano le sceneggiature, e insomma, è stato bello leggerlo tipo un anno prima e vedere... E però non potevi dire niente! Sì, ma bene o male non ho mai sofferto questa cosa di tenermi nascosto nel mio lavoro, anche perché è più bello quando poi esce e tutti ne possono approfittare, anche fare... Ah sì, certo, quello sì. Bene o male lavoro sempre un po', la mia vita è un po' lavorare indifferita, cioè faccio qualcosa che poi nel mondo del giochi a tavola poi le tempistiche sono molto lunghe, lo si vedrà sugli scafali minimo dopo un anno, poi adesso col periodo di adesso capita anche che passano due o tre anni. Eri preoccupatissimo della domanda che titolo dare alla tua autobiografia in caso te l'avessi fatta più tardi hai già risposto secondo me. La mia vita indifferita secondo me è bellissima, è un titolo stupendo, rende un sacco l'idea credo. E il fatto poi che è un po' come quando muore una stella che ti arriva alla luce per tanto tempo, tu quando consegni un gioco e poi arriva sugli scafali sei te di due anni fa. Cioè quindi sei sempre che hai fatto. È quello che mi distrugge in certi progetti. In altri progetti ci sono tempistiche molto più brevi però certe volte... Sì, era quello che ci raccontava anche Chris nella prima puntata pure lui che dice cioè io non so più non me lo ricordo più quando lo devo spiegare quel gioco perché sono passati due anni da quando l'ho fatto. Infatti oggi hai fatto mini spoiler su Instagram per questa puntata Cav era super attento stavano sono svegliati tutti sia su Ratman che sulle che sulle Winx cioè chi cantava chi diceva ah quindi fate le Winx perché fate le Winx vabbè. Com'è stata la stella televisiva? Un piccolo piccolo parentesi. Lo sai che io non l'ho vista ancora ancora non l'ho vista però ne ho sentito parlare veramente veramente male veramente male. Ma basta chiuso argomenti chiuso argomenti era solo pura curiosità. Vedrò chissà prima o poi la recupererò e ti farò avere la conferma o meno chissà chissà vedremo intanto ciao Annie ciao Elisa ben arrivate ragazze del Club della Tovaglia e qualcuno prima notava già il tuo Venom lì dietro io direi di presentare come primo oggetto allora forse proprio quello quello là in realtà non aspettavo i così vigili infatti uno dei primi oggetti adesso mi dispiace perché la mia ho scoperto oggi che la mia telecamera più di un totto non riesce a mettere a fuoco quindi praticamente il primo oggetto è praticamente Venom che si lecca il gelato questo è un è un oggettino si vede si vede abbastanza è stupendo in maniera caricaturale ma questo lo comprai tipo negli anni 90 perché io sono uno dei fan di Venom da prima data mi ricordo che l'avevo visto in negozio in un negozio che aveva anche Gundam era un incrocio tra videogiochi e oggetti giustamente di importazione al tempo parliamo nel 90 e mi ricordo che andai a casa e avevo fatto un link che me lo comprassero perché in quel momento non avevo soldi ero piccolina quindi se lo compro non lo potrò avere quindi questo mi segue da tantissimo tempo e poi perché il personaggio di Venom è uno comunque dei miei preferiti in assoluto come supereroe infatti già si vede che ho già dei poster lo seguo lo seguo da tempo ed è l'uomo ragno diciamo sono un fan della Marvel l'uomo ragno però Venom dopo è stato il personaggio che ho conosciuto hai amato di più sì anche se a mio avviso è un peccato perché poi i film non gli hanno dato veramente il giusto tributo e sono un'altra cosa di quello che è poi tutta la mitologia del simbionte e di Venom che è molto molto interessante anche come metafora del lato oscuro come poteri io non li ho visti i film di Venom anche di quelli mi hanno parlato male sì 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 io ho sofferto soffro ancora ogni volta che hai senso sì nel senso è un vecchio amico che te lo mette dopo tanti successi tante cose tante cose trasporte nell'universo Marvel delle cinematiche Marvel Universe ti trovi che l'unico personaggio è stato fatto diciamo dalla casa della Sony ma ha fatto malissimo poi che l'altro mio l'altro mio supereroe preferito è Ghost Rider che è sempre della Marvel e anche lui ha avuto una fine ancora più drammatico con Nicolas Cage però vorrei dimenticare per favore dimenticiamo Nicolas Cage che sa fare sempre solo Nicolas Cage diciamo sì no al fine sono passato da sono passato da Topolino come lettore di fumetti Topolino che meraviglia ai fumetti Marvel e quando sono passato dal avere storie autoconclusive a un universo espanso quindi come adesso nel cinema o nelle serie trivisive praticamente io da bambino quando scopro non so che magari c'è un uomo ragno che combatte contro un cattivo e salta la luce e sotto c'è la nota qui è saltata la luce se vuoi sapere cosa è che ha fatto saltare la luce nella città compra Devil numero 7 e compravi Devil numero 7 e lui magari lanciava il cattivo nella centrale elettrica della città che figata in quel momento io da bambino ci ho detto no da quel momento hanno avuto tutta la mia attenzione adesso sembra una cosa un po' quasi scontata con con gli ultimi con gli ultimi con le ultime serie però si parla di però era una cosa che ti preparava ti preparava al multiverso diciamo non era il multiverso in quel caso perché la città magari era la stessa il momento era lo stesso però tu dovevi leggere due fumetti diversi per scoprire le storie si intrecciavano si incrociavano era un universo tangibile a differenza di quello disneyano dove ogni storia chiudeva se stessa quindi se c'era un cattivo c'era un coprimario un nuovo personaggio esisteva solo nel momento di quella storia parliamo di dopo non tutti ci sono delle saghe anche disneyane molto belle però bene o male non non era quello il target e infatti dopo non so se per caso tu eri una fan quando è arrivato pk si quando è arrivato pk era la stessa cosa della marvel presa dalla disney anche lì quindi tra un fan di pk agli albori ci sono veramente andato sotto però tra i primi amori c'è bene intanto buonasera a tutti quelli che continuate ad arrivare lo sapete in queste serate io vi leggo leggo tutta la chat non riesco a leggere tutti i messaggi perché la cosa più importante è il flusso del discorso con l'ospite e quindi a volte capita che cerco di non interrompere l'ospite quando è possibile per lasciare che il flusso del discorso continui questo non vuol dire che io non vi legga quindi benvenuto a Giorgione e anche ho visto Silvano Sorrentino ben arrivato arrivo adesso si parla di Venom ed è subito Guerre Segrete ciao Alan ti saluta mentre Giorgio ti chiedeva quando può avere il suo quando gli arriverà il suo kickstarter di Shogun non credo che Alan sappia la risposta però non credo ma in realtà ho provato ho chiesto oggi innanzitutto c'è la pagina aggiornata di Katana che è super super aggiornata complimenti anche a Mario e tutto il loro team perché lo tengono sempre aggiornati e l'ultimo aggiornamento quindi leggibile da tutti è del 23 settembre quindi praticamente di 5 giorni fa e dicevano che non ci saranno Essen però la produzione è stata fatta tanto che se andate a vedere quindi scrivete scrivete anche solo Katana Kickstarter arrivata la pagina ma adesso gli update ed è molto interessante perché ci sono tutte le foto della produzione quindi tutta la fabbrica che sta montando e quindi da me è un piccolo colpo al cuore quando vedere che tutti questi tutti questi operai stanno mettendo tutte le mie miniature negli Spencer giusto ecco e dopo e dopo vediamo qualcosina anche eh perché Alan mi ha passato qualche immagine quindi dopo le le vediamo dopo le vediamo quindi su quell'argomento seguite la pagina di Katana che è super aggiornata ecco perfetto grazie Alan e vediamo se avevo perso qualcos'altro benvenuto Ercolino grazie per essere salito sul furgone di Dungeon Dice ben arrivato ben arrivato con Alan abbiamo scoperto quindi il suo primo oggetto ma ne abbiamo ancora altri due da vedere perché Alan come qualcuno ricordava in chat prima ha pubblicato una foto oggi in cui spoilerava tra virgolette i tre oggetti che che di cui avremo chiacchierato stasera uno l'abbiamo visto arrivano adesso magari gli altri due scegli tu non hai preferenze tra quello più piccolo e quello un pochino più grande no di quale pensi di di voler parlare di più è difficile vabbè dai faccio vedere questo questo qua ok ok ti devo dire non so se qualcuno ciao teo ben arrivato recensioni minute non so se qualcuno ha risposto alla tua storia indovinando ma a me hanno scritto diverse persone rispondendo alla storia e hanno indovinato io non gli ho detto niente ma hanno indovinato hanno indovinato complimenti cos'è esattamente è un carro è una miniatura di un gioco che è Warhammer ed è esattamente il carro a vapore dell'impero conosciuto come per gli appassionati come Steam Tank praticamente è un modello Game Workshop del gioco Wargame Warhammer perché io sono uno sfegatato di quell'universo di quella casa editrice e questo è la miniatura che tengo di più e che che ancora fa enorme gioia nella mia vetrina insieme a tutti gli altri giochi che che faccio sempre legati a Game Workshop diciamo che da giocatore l'universo Game Workshop quindi Blood Bowl Warcry adesso il defunto Warhammer Fantasy Battle occupa quasi un 60% del mio tempo speso nel gioco e quindi anche perché queste queste questo questo particolare tipologia che sono i giochi di miniature su tabelloni quindi su campi su campi non non ci sono non giochi su dei tabelloni non giochi su dei campi con scenari ti permette sia di giocare a usufruire del gioco ma anche quando magari non hai non hai amici con cui giocare oppure vuoi fare una giornata tranquilla di relax di pitturare modificare personalizzare la tua la tua banda e montare i modelli quindi è un è un hobby molto molto immersivo nel senso che chiaro e stranamente se si paragona col gioco da tavolo questo è il tipico gioco in cui un po' alla magic cioè tendi a giocare sempre a quello per poter migliorare e poter approfondire il gioco quindi fa strano per un giocatore da tavolo che magari di solito gioca una volta un gioco acquistato poi dall'altra parte i giocatori di Warhammer o quello che sia o Bloodball oppure i giocatori di magic riescono a giocare costantemente allo stesso gioco abbiamo questi due due specchi molto molto lontani ma comunque possibili di come vivere l'aspetto la passione ludica c'è Annie che si sta lamentando perché lei è una grandissima appassionata di di Wargame lei poi è un'archeologa quindi tutta una 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 backstory e un background particolare ed è molto legata a questo tipo di giochi stava pregando twitch di non bloccarsi ora perché le stava dando problemi perché vorrebbe ascoltare queste storie per infinite ore sia lei che Cavzito avevano indovinato infatti nelle nelle storie ma dando proprio la tipologia esatta infatti Annie scriveva sono stata troppo storica nella risposta alla storia della Giulia anche perché io di Warhammer non so assolutamente niente ciao Daniele ben arrivato ciao al gioco semplice veramente nulla di questa faccenda invece tu mi dicevi che nasci Wargamer sì 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 in realtà come come sempre io ho fatto tutti i passaggi possibili cioè tutte le tutte le spillette le ho prese quindi giocatori di magic giocatori di ruolo poi a un certo punto è arrivato Heroquest ho continuato a fare giochi di ruolo ho fatto per cinque anni le superiori campagne di Girsau di quello che è il gioco di ruolo del signor De Anelli ma poi il concetto di miniatura mi ha sempre appassionato tantissimo il concetto di dimensionalità e di modifica tanto che tornando al collegamento di Christian Giove che siete entrambi voi appassionati di Lego lo ero tantissimo anch'io però il modellismo per me è un livello superiore nel senso uno si costruisce non so mettiamo la macchina di ritorno al futuro la DeLorean la costruisce e finisce lì qua invece devi modificarla puoi costruirla modificarla pitturarla o puoi anche personalizzarla o farne altro quindi diciamo non hai bisogno di pezzi di Lego perché puoi anche costruire qualcosa te con anche pasta per modellare e quello mi ha poi aperto la strada a scolpire prima in maniera analogica e poi a scolpire digitale quindi certo è rimasto quindi alla fine sono molto sono molto appassionato anche perché poi le miniature sono sono qualcosa di bellissimo sono dal punto di vista di qualità le migliori anche superiori ai giochi da tavolo anche se ormai siamo a livelli quasi quasi uguali però quindi ne usufruisco sia da giocatore sia da si diverte dipingere le miniature sia da scultore che apprezza tutte le sintesi tutta la la dinamicità e altre piccolezze che dal mio punto di vista lavorativo è come se comprassi documentazione sto comprando documentando non sto se ho l'armadio pieno di miniature perché sono fatte per lavoro è la stessa cosa che ci diciamo anche noi divulgatori dei giochi da tavoli dei giochi da tavoli dei giochi da tavolo eh ma mi serve per lavoro su questa cosa siamo tutti accomunati e quindi come tu magari hai sposato appieno l'universo di Harry Potter totale esatto io in qualche modo mi sono trovato un imago su questo universo che è definito vecchio mondo quindi praticamente una specie di medioevo un mondo dove c'è questo medioevo e questi continenti dove in realtà la cosa che poi mi aveva appassionato e lì ho scoperto di avere un'altra passione cioè tutte le fazioni di questo mondo si rifanno a fazioni storiche esistenti esempio gli umani che abbiamo visto qua questo sono l'impero si rifà a rinascimento poi sempre portato al fantasy quindi hai lo steam tank però magari a fianco agli umani agli stessi umani ma che sono rimasti alla guerra scusami al circolo di Re Artù al mito di Re Artù e quindi sono con la cavalleria un pochino meno meno evoluti poi magari gli elfi si rifanno magari a una cultura orientale quindi hanno tipologie che si legano al medioevo orientale giapponese oppure gli uomini lucetola che si rifanno agli inca perché vivono dall'altra parte dell'oceano insomma tutte queste piccolezze che quando ero ragazzo le prendevo e le assorbivo come mi sembravano molto più realistiche le cose chiaro certo a cose che magari non so i non morti certi tipi di non morti in questo caso si chiamano Kemri si rifacevano alla mitologia egizia quindi se vedevi uno scheletro che era vestito con le vestizioni da 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 egiziani a questo punto lo inquadravi meglio ti sembrava più realistico e quindi quello ha portato a essere molto dal punto di vista di caratter design molto molto potente perché comunque va a prendere le rimanescente che avevi di storia anche solo gli omini lucertra che si rifanno alla mitologia di dinosauri è sempre qualcosa che un po' vagamente conosci quindi è un fantasy ma non un fantasy così lontano dalle tue corde c'è sempre un fondo di concept che si basa sulla realtà è un mondo fantasy quindi mi aveva affascinato e da lì poi ho scoperto che ad esempio certe cose poi sono storiche cioè i riferimenti sono storici quindi quando scopri che quell'arma lì che usa quel uomo lucertola esiste realmente anche se è strana tipo una lama fatta con i denti di squalo la realtà è certo un valore aggiunto la realtà e la storia sono molto più interessanti di un fantasy puro se si basano su qualcosa di reale e da lì poi è nata anche la mia passione per la storia su tutto ecco perché di solito sono molto più a mio agio a fare giochi con base storica diciamo spondi una porta aperta con Annie sicuramente che invece che poi stava scrivendo che lei sta costruendo il modellino della Spingarda o il cannone medievale di Leonardo da Vinci eh sì 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 ma guarda sei in buona compagnia buona compagnia anche sempre che cioè nel nostro gioco nel nostro mondo comunque quando noi parliamo di giochi storici non è detto che per forza devono essere giochi magari simulativi che si rifanno guerre storiche ci sono anche quei tipi di giochi ma io quando intendo giochi storici intendo anche giochi che prendono un po' il fascino di quell'epoca non so Civil Wonders comunque lo considero come un gioco che si basa su elementi storici sulla bellezza anche non so anche anche l'ultimo gioco ambientato nell'universo di Asterix lo considero storico perché anche se cartoon comunque si rifà a un archetipo di storia l'impero di Cesare intendi sì c'è Cesare esatto poi ci sono tantissimi altri il mondo è pieno di giochi basati su ambientazioni storiche ma che poi non veicolano la storia ma solo l'immaginario storico questo ragazzo mi sta simpatico Bob che gioca attenzione vi osservo questo è Luigi che scrive appare e scrive che controlla perché vuole rimanere primo ma manca ancora un bel po' prima di arrivare alle domande alle 15 domande super veloci Luigi chissà se Alan ti batterà chissà lo scopriremo alla fine di questa puntata in cui dichiareremo anche il vincitore ufficiale di out of the box delle domande veloci di out of the box e in ogni caso è sempre meraviglioso sentir parlare lo diceva anche mister Simo e di questo sono molto contenta perché delle vostre passioni di come escono fuori le vostre passioni in questo spazio e di come si collegano poi a tutto il lavoro che fate in questo settore cioè è bellissimo come effettivamente il tuo lavoro di scultore di miniature nasce nasce da una passione che però è diventata effettivamente un vero e proprio lavoro cioè si può fare è bellissima questa cosa è anche molto di di speranza ecco quello che per essere ancora più di speranza è quello che posso dire che a me non mi ha non mi ha salvato il talento ma mi ha salvato la testardaggine perché io non so non so come ma volevo fare questo questo mestiere o meglio quando io parlo di mestiere parla di più creare qualcosa disegnare scolpire quello che è però l'avevo l'idea già pronta alle medie cioè quindi in seconda media già ero convinto a tanto alla fine dice se io devo scegliere un lavoro magari non ci sarà possibilità di farlo in maniera professionale ma perché non sognare in grande capito e quindi ho detto noi ci provo e vediamo come va la mia fortuna o sfortuna è che io sono comunque dicevo prima romagnolo e mio padre aveva un ristorante e quindi mio padre ha detto tu fai quello che vuoi nella tua vita qualsiasi lavoro vuoi ma finché c'è ristorante tu lavori nel ristorante quindi mi ha permesso da una parte ero comunque relegato al lavoro familiare ma l'avere un lavoro stabile in qualche modo un lavoro familiare che mi dava da vivere e nei tempi di pausa poter avanti il mio lavoro sia dal punto di vista di scuola di fare le scuole adatte e esercizi sia da prendere clienti su clienti quindi ho avuto questo magari sono diventato professionista un pochino più tardi perché ho diluito a fare sia il lavoro entrambi i lavori contemporaneamente ma poi ce l'ho fatta senza quella magari quella fretta che colpisce tutti che a un certo punto devi in qualche modo guadagnare subito perché hai solo quella come scelta quindi il mio consiglio è soprattutto in carriere dove in carriere nuove chiamiamole nuove dove c'è bisogno di una maggior stabilità meglio prendere un lavoretto part time e tenerlo finché poi il tuo sogno diventa più stabile allora lo lasci e puoi continuare tranquillamente a fare quello e quindi in realtà è solo stato testardaggine che ho imparato a disegnare perché avevo voglia di fare questo mi ha salvato però è bellissimo è bellissimo sentirlo sentirlo dire assolutamente grazie grazie infinite terzo oggetto terzo oggetto allora questo qua in realtà è difficile da capire perché è un in realtà un lettore mp3 è una forma strana perché si chiama zen si rifaceva a un a un sassolino tipo del giardino zen però esatto è uno dei lettori mp3 che ancora perdura nel tempo e ancora si difende totalmente oltre Spotify quindi questo è il simbolo di in realtà poi la mia passione è tantissimo la musica e tanto che mi ha permesso sia di mi ha tenuto compagnia in tutta la mia vita e mi tiene tuttora sia nello studio che fuori quindi questo è un po' un simbolo dell'ultimo lettore mp3 che ho perché poi è arrivato Spotify però quando voglio disconnettermi da tutto anche da da Spotify metto totalmente offline e mi diritto fuori questo mp3 di 2 giga che ha ancora mp3 che risalgono comunque a una ventina di anni fa perché giustamente quelli sono rimasti non li ho più avendo l'abbonamento annuale di Spotify non sono andato più a prendere le novità e non si trovano più neanche ora approfondiamo l'argomento intanto ti riporto un messaggio del club della tovaglia che Twitch gli sta facendo troppi capricci quindi prima che gli salti definitivamente ci tenevano a farti i complimenti per le bellissime illustrazioni delle mura di Alesia grazie che hanno apprezzato tantissimo la musica è il mio salvagente la musica è vita dice Mr. Simo a me devo dire che se tu non mi avessi detto che quello era un lettore mp3 io pensavo fosse il telecomando di un cancello automatico no ma è fantastico perché c'è pure si vede un po' addirittura aveva le casse cioè ha le casse quindi se vuoi sentirti la musica lasciandolo sul tavolo c'è pure che figata mazza era super tecnologico sì ma poi il bello perché dopo sono arrivati con gli schermetti led ma gli schermetti led alla fine ti fanno consumare solo più batteria se tanto le tue cartelle io c'avevo il primo ipod nano sì me lo regalarono per i 18 anni sì il primo ipod in assoluto era addirittura quello solo con la rotella senza display o figlio di questo quello quando è arrivato poi più grande col display comunque non so poi le batterie ancora duravano poco il tempo quindi c'era sempre questa cosa perché mi dai uno schermo se poi posso usare 8 ore di musica al posto che è 12 capito vabbè e comunque lo mettevo cioè lo mettevo e poi non stavo a guardare lo schermo ormai conoscevo a memoria le mie cartelle musicali eh infatti succedeva tantissimo anche a me io pure sono passata da dai lettori cd portatili con cui andavo a scuola e poi all mp3 cioè a 18 anni mi regalarono l'ipod nano con lo schermetto e poi ai cd mp3 in macchina prima di spotify anche c'era della roba dentro incredibile mi sembra di aver capito che io e te abbiamo la stessa playlist di spotify ovvero infinita totale chiedeva qualcuno Silvano mi sembra e infatti a proposito a proposito se hai mai illustrato copertine di dischi no mi piacerebbe tanto ma entri in quel campo magari avendo già contatti magari non so vivendo a Milano in certi punti in cui magari conosci un artista e poi ti fa illustrare non è che provato anche perché ultimamente ne vedo pochi di illustrazioni nei cd forse l'unico che mi ricordo adesso attualmente era un live di giovanotti che era fatto da un disegnatore famoso di supereroi però al tempo c'erano le illustrazioni nel cd adesso che mi ricordo di portubazione che avevano qualche illustrazione fatta da baronciani no no su quello no adesso forse è un po' più raro sì oddio il fatto è che non esistono proprio i cd adesso magari devono investire di meno i cd le copertine le fanno comunque perché comunque su spotify si caricano magari le usano anche per il merchandise edizioni speciali queste cose qua sì però magari oddio adesso così su due piedi non mi viene in mente in effetti un un'immagine ma guarda iconografica mi viene in mente il cd di 8883 mi sa il sogno il sogno Lincoln dove c'è lui alla Dylan Dog che scappava ed era fatto era un designatore di Dylan Dog che aveva fatto copertina con lui a posto di Dylan Dog quella è l'unica immagine che mi ricordo iconografica che è diventata molto famosa però in effetti musica ahimè musica e illustrazione fanno fatica un po' a veicolare ancora poi chissà chissà ci sono fumetti legati tipo fumetti dedicati a Caparezza poi c'è c'è diciamo l'unico che è rimasto entrambe le entrambe le nelle posizioni è Toffolo che si può permettere ancora di fare infatti io cioè nel senso per farti capire perché ho ascoltato il 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 video con Bove e guarda oh vedi ragazzi i tre allegri ragazzi morti ve l'ho detto anche la scorsa settimana cioè sono da ascoltare almeno una volta cioè fantastico io sono stata a un paio di concerti loro bellissimo quando parte il mondo prima live è una cosa incredibile sì sono cioè Toffolo è veramente un artista che è riuscito poi a evolversi col tempo e a come dire mettersi sempre in gioco da passare dal rock al lento alla cumbia in questo caso con gli ultimi quindi sono quegli artisti che sono sempre molto molto propensi ad andare dove dove il mondo non è conosciuto e quindi se tu sei un fan gli segui e anche se all'inizio dici ma non sono più gli stessi dell'altro cd però se sei reticente dici no questa è un'altra cosa non mi piace se invece segui e sei fedele del percorso artistico continui a sentire e poi dopo vedi che ti convincono perché ti hanno portato in una zona che prima tu non conoscevi concordo concordo a me è un discorso che magari cioè io seguo tantissimo mi capita di ascoltare tantissimo delle delle band piccoline che nascono piccoline che nascono magari un po' più leggermente più indie eccetera eccetera poi a una certa diventano famosi o magari vanno a Sanremo no come è successo anche con i pinguini tattici nucleari o come lo stato sociale che io ascoltavo già da prima poi quando vanno a Sanremo c'è sempre qualcuno che si lamenta eh adesso siete diventati commerciali raga e senti la musica e non rompi se ti piace bene se non ti piace non li ascolti no concordo ma c'è il discorso perché un artista anche impegnato non può andare a Sanremo che è il festival della musica leggera e fare una canzonetta perché deve qual è il problema esatto anche i disegnatori devono pagare scusami anche i musicisti devono pagare un mutuo se sono silvestre e faccio salirò e con quello riesco a chiudere il mutuo dieci anni prima io sono stracontento non è che mi rovina un percorso non è che dopo lui si è in qualche modo è stato un divertimento non è che poi ha smesso di fare canzoni impegnate certo magari ti fa anche arrivare a un altro tipo di pubblico no cioè ti apre la porta a un altro tipo di pubblico che magari senza quella canzone a te non sarebbe mai arrivato che poi in realtà è la stessa cosa che succede anche agli artisti anche con le illustrazioni che può succedere anche con con quell'illustrazione perché una persona non deve diventare famosa allora io ci sono passato sopra da fan di primo di prima di primo pelo diciamo dei subsonica quando sono diventati famosi poi siccome l'ascoltavano tutti però si è subsonica si sono venduti quello l'ho passato però in realtà poi è semplicemente un po' come succede nei giochi da tavolo ti scoccia magari che prima eri te e l'artista al concerto e poi scopri che dopo che è passato a Sanremo e hai fatto un bel pezzo un singolo ti ritrovi che riempie gli stadi e ti scoccia che magari il ragazzino di 14 anni canta con te le canzoni e dice no ma questo è il mio artista del mio periodo perché lo stai cantando te e poi solo la canzone che passa in radio però ragazzi nel senso è brutto ma dove subentri in tutti i fattori che più una cosa anzi io sono contento per l'artista che così può fare altre canzoni può fare altre cd senza magari essere legato a quella piccola nicchia che magari non porta non gli porta giustamente uno stipendio a fine mese quindi ben venga questo non significa essere il rispettoso della nicchia non significa questo anzi non significa rinnegare il proprio cuore diciamo e fare qualcos'altro significa semplicemente aprirsi altre porte e riuscire a portare il pane a casa facendo anche poi le canzoni più impegnate che i fan più accanniti continueranno a cercare certo poi dopo come non per tutti magari qualcuno va a fare proprio a Sanremo una canzone brutta diciamo però c'è gente che riesce a fare perle come magari per me è stata la paristella di Zen Circus a Sanremo che hanno portato uno dei loro pezzi migliori sono arrivati ultimi a Sanremo ma sono rimasti con loro con la loro anima senza non vuol dire che non si sono venduti però sono riusciti a portare a Sanremo una canzone molto difficile perché l'hanno voluto loro e così quindi in realtà non ci vedo niente di male quindi sono stracontento quando poi adesso poi negli ultimi quasi 5-6 anni il chiamiamolo il cantautorato la musica indie italiana ha ritrovato un po' il suo aspetto giusto nel panorama poi dopo che magari si è andata su altri tipi di musica più giovine che magari non seguo di più è un altro discorso ma quella non è musica che parla a me parla ad altri tipi di persone quindi ben venga anche perché che problema c'è non ci può essere musica per tutti certo c'era intanto Tribreso che diceva che secondo lui per certi versi è più sfidante fare una cosa commerciale popolare quando sei un artista di nicchia che il contrario sì sì che poi questo paragone si può anche girarlo sul mondo di giochi a tavolo sul mondo dell'illustrazione cioè quello se osi però certe volte magari tu hai uno stile particolare ma poi quando rientri in un complesso più grande ti devi adattare devi adattare il tuo stile cioè a me capita di far cose molto autoriali altre volte come Ratman o le Winx in cui ero un piccolo ingranaggio non devo disegnare le sedie alla mia maniera no loro c'erano delle linee guida e tu per quel progetto ti attieni alla linea guida quindi quindi un po' funziona dappertutto sia nella musica che ne altro dipende dove poi suoni o in che festival in questo caso rientri capito sempre però magari dando un po' di tuo insomma siamo come dire professionisti da adeguarsi poi dopo qualcuno mi dici alla sua unicità però io come come io apprezzo tanto gli editori tese e li ho usati ho seguito loro sia musicalmente che li adoro ma anche come loro concetto di di come si chiama di trasversalità trasversalità sì o versaltivira versatilità in cui a un certo punto vedevi che questo gruppo Eglio e i suoi compari facevano delle cose più disparate dagli spot televisivi a tantissime altre cose a programmi televisivi però al primo impatto puoi dire ma questi ragazzi si stanno svendendo perché stanno facendo di tutto invece poi capisci che loro lo fanno perché hanno proprio una passione di andare a provare a fare qualcosa che è un pochino più lontano da loro cioè come come ci muoveremo se facessimo una sigla di un cartone animato o faremo la sigla di un serial televisivo come ci muoveremo se facessimo un programma e questo andare oltre andare in un posto dove non conoscono gli permettono sempre di essere molto sul pezzo quindi a loro per assurdo sono stati molto ad esempio dal punto di vista del mio percorso personale il concetto è perché non dovrei fare questa cosa certo perché perché no mi propongo una cosa perché non dovrei farla se trovo dei motivi plausibili che non dovrei farla non la faccio se invece è solo paura di fare qualcosa di nuovo allora un po' il tuo il tuo spirito artistico un po' muore perché se incominci a fare le stesse cose come certi artisti musicali che fanno sempre le stesse cose sei un po' dopo un po' si un po' dopo stufi nel senso poi si certo è chiaro ringrazio intanto Silvano che stava rispondendo alle domande di Tania e Dancefloor su sulle novità che non si possono dire però su cui non si può dire niente su The Escape grazie mille Silvano e c'era altri c'era Matteo di Recezioni Minute che dice mi ha dato un sacco fastidio quando Mozart ha cominciato a girare l'Europa e tutti Mozart qua Mozart là era molto meglio quando nei salotti eravamo lì a fumare e ascoltarlo strimpellare ecco volevo approfittare di salutare Teo perché approfitto questa piccola parentesi perché collegandosi al discorso di andare dove non nessuno è mai stato prima un po' alla Star Trek io e lui abbiamo fatto questa pazzia che ci siamo incontrati ai DAG io avevo un progetto di girare l'Italia io a un certo punto l'ho sentito in una live di mi sarà proprio Dungeon Dice a un certo punto questa idea di girare l'Italia e vedere i club italiani l'ho recepita e a un certo punto ho detto ma cacchio ma sarebbe una cosa fighissima allora l'ho contattato e ho detto ma avresti voglia di fare un giretto quando sei libero e andiamo a Torino e facciamo una specie di tour nei posti migliori ludici quindi l'abbiamo fatto e vi ho seguito infatti per quattro giorni abbiamo fatto questa cosa abbiamo filmato è stato un viaggio splendido e te ho una persona veramente in gamba che non conoscevo prima cioè è stato proprio guarda io non ti conosco ma facciamo questa cosa quindi a proposito dell'uscire dalla comfort zone e sperimentare cose abbiamo abbiamo fatto questa cosa lui giustamente più in gamba di me perché è più bravo davanti alla telecamere però abbiamo tutto il girato che è in mano mia e devo solo montarlo adesso ho consegnato le cose per Essen per dei incontri importanti a Essen quindi adesso potrò montarlo il format si chiama giocatori erranti che si rifà un po' ai mostri erranti dei dungeon e si ha i giocatori che erano e quindi poi sbagliano andiamo in giro a sbagliare nel senso errare nel senso di sbagliare queste cose mi fanno fare e quindi e quindi siamo in questa pazzia abbiamo preso come prima tappa per la prima puntata Torino e adesso devo solo quindi io in questo caso montare e poi dopo mi confronto con lui però diciamo che nel prossimo a breve uscirà però era una piccola cosa che ci tenevo a dire previsto che c'è Teo qua presente ma grazie che figata io ho seguito un po' le vostre storie ero molto curiosa di questo progetto non avevo ben capito eh no no ma abbiamo tenuto un po' vago proprio apposta per un po' sull'eticale è bellissimo è stupendo non vedo l'ora di vederlo complimenti a entrambi dice Teo dice nome ideissima top di Alan nome geniale stupendo veramente veramente bello bellissimi questi contributi fate sapere quando venite a Roma dicono prima montiamo la prima puntata poi da lì si apriranno le scommesse però è un bel progetto quindi adesso avrò tutto il tempo per poter montare avevo delle consegne da fare perché ahimè giustamente io non vado fisicamente a Essen ma devo produrre cose anche per incontri particolari e poi step successivi dei lavori in cui sto facendo quindi in quel momento è stato giorni di fuoco certo certo e aspettiamo fateci sapere quando uscirà la puntata pilota esatto la puntata pilota prima la puntata pilota poi si tirano sui soldi poi si compra una macchina veloce per raggiungere Roma dice Teo ma scusate cioè il treno comunque è abbastanza veloce cioè per venire a Roma in ogni caso guida la puntata pilota ecco i fredduristi continuano ad aumentare in chat obba che mono è tua responsabilità questa come si questa non mi vengono mai le parole avete capito è tutta colpa tua comunque praticamente la zona Piemonte Liguria Lombardia si conferma essere il famoso triangolo ludico io da buon pugliese vi guardo da lontano ecco giù la punta i pedoni che attraversano no io non punto i pedoni che attraversano quello è il mio superpotere che non so gestire cioè io ho questo superpotere che la gente deve attraversare davanti a me sempre anche se non ci sono le strisce la gente si butta davanti alla mia macchina e io devo sempre stare super attenta è un superpotere che ancora non ho imparato a gestire ne appaiono davvero esatto Denzel infatti lui lo sa perché l'ha visto con i suoi occhi quindi non sto dicendo bugie non sto dicendo bugie in ogni caso ecco sono contenta di aver visto la maschera dei TARM anche in un'altra casa perché sono sempre troppo poche le persone che conoscono i TARM veramente veramente oddio adesso fortunatamente sono riusciti a rimanere loro ma anche se hanno fatto i concerti hanno fatto Sanremo hanno aperto i concerti di giovanotti diciamo che loro non è che ci tengono a diventare poi così famosi però no non gli interessa praticamente però lo sono anche se anche se esatto però tantissime persone non li conoscono invece comunque secondo me sono sono oltre ad essere orecchiabili cioè raccontano delle storie molto interessanti alcune in particolare alcune più di altre naturalmente poi c'è ogni canzone ti parla in maniera totalmente personale come tutte le canzoni in realtà no? però ecco sono contenta sono sempre contenta e mister Simo spero che che Alan abbia risposto alla tua domanda precedente perché chiedeva all'inizio che musica ascolti spero sì poi dopo così sembra che ascolto solo musica italiana però spazio da da elettronica a tutto tutto lo scendibile forse non mi avvicino al metal e non mi avvicino alla trap però bene o male elettronica anche diciamo anche Rossini cioè fortunatamente la mia fortuna è che nello studio posso ascoltare tutta la musica che voglio quindi riesco a essere a recuperare tantissimi tipi di musica anche artisti nuovi mentre lavoro che non è non è da poco cioè assolutamente se sei in un ufficio le otto ore lavorative devi dedicare a lavorare io lavoro anche ma ho un sottofondo musicale e grazie a Dio è arrivato Spotify e che mi ha permesso di avere tutta la musica del mondo è vero concordo loro sanno quanto io canti costantemente per me è una risorsa fondamentale totalmente sì ma soprattutto arriva un artista sconosciuto che ha fatto quel cd in Olanda il giorno stesso ce l'hai in prima dappertutto ce l'hai il singolo direttamente su Spotify e tu lo puoi ascoltare da appassionato l'ho trovato una rivoluzione prima comunque io ho 40 anni quindi prima era la fase in cui magari c'era il Napster o i primi 56k quindi un artista doveva andare a comprare il cd originale magari si è sconosciuto perché un conto è i Daft Punk un conto è l'artista che ha fatto il singolo è chiaro certo non c'era tutti questi modi per ascoltarlo invece adesso è tutto a portata di mano si si non dobbiamo dimenticarlo le nuove generazioni magari sembrano discorso da vecchi però bisogna ricordare anche che certe volte devi combattere per cercare le cose però io me la godo io me la godo ci sta ci sta è perfetto dice Teo ma scusa ma non eri parente di Dargen intente Dargen d'amico ovviamente immagino che ti sia stata già fatta questa battuta più volte però in realtà poi dopo anche se sono parente di Ilaria D'amico che è una vecchia conduttrice sì certo quello che ne sono più fiero è che sono sono anche sono anche parenti di Tony D'amico che è il mafioso dei Simpson posso così il quadro è completo è anche il cattivo di Kikess fa di cognome D'amico ecco quindi quindi ho dei bei dei bei personaggi che mi fanno compagnia nella mia famiglia diciamo ecco ma dice Angelo che Angelo fa domande bizzarre di suo questo format potrebbe averlo inventato lui e chiede Alan l'amicizia è importante oppure avere amico nel cognome è già sufficiente potrei rispondere anch'io a questa domanda e ti direi di no no secondo me non è sufficiente però faccio rispondere Alan cioè quindi la domanda è se il se è importante l'amicizia oppure avere amico nel cognome ti è già sufficiente è complicato e diciamo che cerco di essere ci posso rispondere che cerco di essere fedele al mio cognome tutto qua ecco mi sembra un'ottima risposta comunque sì ragazzi in questa live stasera regna l'amicizia scusate dovevo dirlo e che dire domitilla d'amico tirano fuori anche la mamma dell'imperatore palpati mi sembra facesse d'amico di cognome certo però sicuramente sicuramente raccomandabile poi esatto esatto vabbè io direi che possiamo passare allora dopo questi tre oggetti alle domande lunghe non quelle veloci hai ancora un po' di tempo va bene per prepararti per prepararti quindi vai tranquillo intanto ti chiedo colazione preferita se la fai sì allora di solito prendo latte e nesquik solo che poi sono diventato adulto e per simulare una adolescenza finita faccio latte e caffè sorubile e brioche un po' classico vorrei far notare a tutti che cristian ci ha parlato ci ha detto praticamente la stessa colozione latte nesquik ed adulto nesquik e latte sì esatto io mi associo a questa squadra e che quindi anche questa è una cosa che torna cioè forse per per essere cioè comunque siamo proprio giovani dentro perché continuiamo a giocare ragazzi viva il latte col nesquik sdoganiamo il nesquik ma è buono ma è buono è buono che dobbiamo fare esatto basta mettere il nesquik nella confezione del caffè solubile e nessuno saprà nulla dice silvano giustamente è un'idea geniale è un'idea geniale passa inosservato ti ho messo tutto sto tempo per grazie esatto viviamo tutti la stessa vita infatti esatto la maglietta che indossi è quella utilizzata da Robert England per girare nightmare dice Angelo col tempo è un po' sbiadita certo ok l'ho messo solo perché era un bel contrasto con lo sfondo proprio solo dal punto di vista cromatico ho detto mamma mettiamo una maglietta io la chiamo la maglietta di persone che cerca attenzione capito perché ok a proposito di persone che cerca attenzione qualcuno in chat cerca di scoprire degli altarini e Solaz scrive bugia Alan va di Rossini e estate al limone questo perché vivo in una vicino a una città in cui cos'è la Rossini allora premetto mio padre è pizzaiolo al ristorante che dicevano prima a un certo punto avevano il ristorante e venivano i clienti da Pesolo questa città che dista 20 minuti da casa mia e gli chiedevano costantemente una pizza con base margherita uova sode e maionese dice ma mio padre che comunque di origine napoletane ogni volta diceva no non te la faccio manco morto poi quando è stata la 40 persone che glielo chiedeva ha scoperto che la tipica pizza pesarese è questa e si chiama Rossini cioè quindi pizza con uovo sodo e maionese e ne vanno pazzi e potrebbero ucciderti se non gli dai una Rossini quindi a quel punto mio padre incominciò a farla e io non mi azzardo a mangiarla però se sei pesarese in questo caso di questa città vicino a dove abito la pizza Rossini è un must è proprio un loro nella loro bandiera c'è Rossini come il il famoso cantante eh sì cantante vabbè abbiamo scusato compositore compositore ecco non fosse neanche compositore vabbè faceva non mi viene in mente però è la Rossini la pizza tanto che poi gli hanno gli ha dato il nome però insomma se incontri un pesarese non dirgli mai che la Rossini non ti piace in questo momento ci siamo indignati tutti eh Pesaro è uscita dall'Italia in questo momento e poi dicono della mia zola è calamari giustizia per Luca Ciglione in veste di Teo ok certo chiaro un'incredibile voglia di pizza con l'ananas ecco non so se sia peggio questa o quella con l'ananas è chiaro mamma mia io non la vorrei assaggiare neanche da lontano cioè proprio mai nella vita e è sta te al limone perché quindi preferisci la sta te alla pesca mi piace più il limone che il te alla pesca se devo proprio scegliere eh bene te al limone te alla pesca te al limone ho capito ho capito quindi devi già spuntare questa cosa eh no non era non era tra le 15 domande mi disfiace Alan sta provando a eliminare domande per fare prima dopo questa è la sua strategia ecco qua intanto si è scatenato il team limone ma va bene va bene cosa ti occupa la giornata in questo momento non te lo chiedo perché ce l'hai già detto ti stai occupando di progetti in chiusura per Essen di cui però non ci puoi dire assolutamente niente no perché sono cioè non sono cose che usciranno sono cose che si faranno negli incontri per fare i step successivi quindi quindi niente non ti chiediamo oltre per non metterti in difficoltà no ahimè non posso ho consegnato un gioco l'altra volta ma insomma il problema è mio come dicevamo prima una vita indifferita quindi una vita indifferita fare le cose tipo di katana che esce tra poco ma altre cose non ufficializzate non posso mi dispiace e se no poi è spoiler esatto ma che modo esattamente e senza spoiler ragazzi siete in grandissima forma ma Alan cosa faresti in una giornata completamente libera sai che non mi ricordo più cosa come è fatta una giornata completamente libera ma penso che passerei totalmente libera quindi tipo fossi l'ultimo uomo della terra a colorare le miniature che ancora non ho colorato proprio e poi magari riuscirei a passare più tempo con la mia ragazza cioè quello sarebbe carino dici anche se è a pari tra le miniature non c'è una cosa che supera l'altra no siamo lì chiede è chiaro capisco 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 ma allora fammi scegliere qua vado a pescare vado a pescare per prima le miniature e poi la ragazza dice ecco allora se c'è la tua più grande figuraccia quindi vuoi dire che io devo dire la mia più grande figuraccia che si può dire se vuoi cioè nel senso che se è proprio quella grande 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 che non vuoi raccontare allora la seconda questa capisci che è una domanda cattiva ma siccome io ma siccome io non ho dignità la racconto va bene oh grande così ti vogliamo dice babbilo babbilo attento ti vedo attenzione ok allora te ne do due di figuraccia perché io comunque ne ho accumulati nella vita una è legata a un gioco di ruolo una è legata al cosplay attenzione ok vai e quale scegliene una non posso ah devo scegliere che responsabilità posso dire tutte le mie figuracce gioco di ruolo ok va bene qua sarò breve alle medie a un certo punto avevo approcciato la ragazza più bella della scuola e che la ragazza più bella della scuola alle medie a un certo punto gli ho detto ma noi facciamo giochi di ruolo vuoi venire a già ho capito oddio già immagino doveva parare questa storia una serata una serata vuoi fare ci vediamo facciamo la scheda così dopo giochiamo tutti insieme il resto vabbè praticamente è venuta questa ragazza la più carina della scuola con la sua amica e io gli ho fatto le schede di Dungeons & Dragons cioè gli ho fatto le schede e loro sono rimasti malissimo malissimo cioè non mi ha più rivolto la parola cioè no specialmente si chiama Francesca che poi dopo come dire abita nella mia zona l'ho rincontrata però quando io mi ricordo finita la giornata ho fatto ma veramente mi ha fatto fare la scheda capito queste erano scioccate e ci ripensi ancora ogni tanto ci ripensi e dici ma guarda te in quel momento mi sono detto però è stato molto dice ok Alan sei un nerd però c'è anche un mondo là fuori facciamo di equilibrare le due cose perché cioè la vita è dura non puoi incontrare la ragazza più carina della scuola e gli fai fare la scheda di Dungeons & Dragons scatola rosso hai capito e quindi in quel momento ho detto ok è stato è stato molto 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 formativo esatto cioè comunque esperienza esperienza esatto e intanto in chat c'è un grandissimo coro di Alan uno di noi totale e Mr. Simo dice letteralmente un playboy un playboy esatto adoro che freddure stasera ma guarda sono in formissima qui è sempre così perché l'ho conosciuto l'ho conosciuto e so che può può regalare grandi freddure sì 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 è vero Tribreso vuole sapere che personaggio gli hai fatto ti prego dimmi nana e mezzorca non me ne ricordo perché la mia mente rimuove i traumi e quindi ho cercato di cancellare il più possibile quel ricordo invece altre persone ti chiedono assolutamente anche la figuraccia del cosplay vogliono sapere eh no no ragazzi non è che può cioè ragazzi perdere la dignità va bene però un pezzetto alla volta non tutta insieme nella stessa live però a pensare che sono stato anche uno dei primi cosplayer a Lucca cioè per assurdo cioè va bene poi cioè no sì è una storia un'altra storia interessante di perdita di dignità però la prossima volta che mi inviti magari racconto una cioè non mi posso rovinare così va bene va bene ok me lo segno ragazzi segnatevelo tu siete tutti testimoni ha detto di farsi invitare un'altra volta out of the box finisce stasera ma in qualche modo faremo e ci faremo raccontare anche la figuraccia del cosplay se era sempre con Francesca no fortunatamente no anche perché poi non voleva giustamente più uscire con me chissà perché quindi niente quindi niente sì sono due per il cosplay esatto dice Teo che ho regalato numerose freddure ma durante le riprese Alan ha tagliato malamente la registrazione per simulare vomito e disgusto posso così vabbè dopo questa grandissima rivelazione un momento del passato passato quindi del passato generico della storia visto che sei anche intrigato dalla storia che vorresti rivivere questa è tipo la domanda che è stata fatta a Miss Italia attento a come rispondi che vorresti rivivere la sua cioè alla fine le cose delle 20 storie meglio che rimangono nella storia anche se sono perché è normale che si dice una guerra famosa quindi tu vorresti andare a combattere perdere arti così e tu in quale periodo avresti voluto vivere ecco giustiamola meglio la domanda io sono affascinato da due periodi che è quello romano dell'impero romano e il rinascimento particolare in quel caso un avvenimento ancora conosciuto ma non troppo conosciuto per me è molto interessante il sacco di Roma nel 1527 che è stato è un periodo in cui praticamente è un evento in cui l'anzichenecchi e i spagnoli sono andati a conquistare Roma e l'hanno conquistata e l'hanno messa a ferro a fuoco però cacchio lì quell'evento fa chiudere il rinascimento cioè il rinascimento si chiude dopo quell'evento da quanto è stato epocale e c'è praticamente da visitatore c'è tutto quello che c'è quindi c'è Roma una città importante come Roma i lanzichenecchi che li adoro i spagnoli con loro elmo particolare poi dopo la guardia svizzera poi gli italiani insomma sei dal punto di vista un concentrato di tutte le cose che ti piacciono anche se è stata una cosa bruttissima certo chiaro quello ecco rivivere diciamo sto lì guardo a tutta distanza esatto cioè guardare e guardare perché cioè è la potenza del momento del momento del momento di passaggio cioè sapere che comunque dopo appunto è cambiato tutto è finito il rinascimento dopo ho capito concettualmente come dice il simile sarebbe essere stato presente quando l'uomo ha sobraccato sulla luna o altro però essendo questo periodo storico molto affascinante per me anche dal punto di vista visivo mi sono immaginato come c'erano le cose che mi piacerebbe disegnare in quel periodo capito quindi da questa solo di chiamiamolo character design figo dice Tribreso Carlo Magno l'avrebbe fatta volentieri la scheda di D&D secondo me che D&D una cosa che ti fa arrabbiare chiedere scusa per colpa di altri ti fa arrabbiare cioè proprio arrabbiare eh sì cioè no è figo è figo perché magari è una cioè capisco so immedesimarmi perfettamente nell'ipotesi però magari ti lascia più deluso che arrabbiato invece a te ti fa proprio arrabbiare nel senso il mio lavoro comporta anche di avere delle responsabilità e magari non sono l'ultimo della fila sono quello che magari segue altre persone quindi se magari per colpa di altri anche nella vita nel genere per colpa di altri io mi sono preso una responsabilità che non posso mantenere per colpa di chi non ha fatto quello che doveva fare anche la pubblicità amicale e quindi la responsabilità è mia io mi prendo la responsabilità di non avere in qualche modo seguito quella persona però mi fa investialire comprendo perfettamente comprendo perfettamente chiarissimo chi è la persona più intelligente che conosci questa è cattiva che conosco vabbè dico il mio amico Andrea perché così non lo conoscete qui non faccio torto nessuno di quelli del mondo ok ok ciao Luca ben arrivato giù la chiedi ad Alan se si prende la responsabilità di gridare giustizia per Luca Sciglione qua è obbligato è tipo obbligatorio se vuoi partecipare a questo grido che ormai è l'or del canale perché Luca è mesi da quando ha perso ha perso che poi non è vero ha vinto un quiz su Harry Potter che ho fatto io è arrivato primo a pari merito con un'altra ragazza per lui è giustizia per Luca Sciglione quindi chiede a tutti di partecipare a questa cosa però non mi schiero a partito preso così su due parole no no voglio prima vedere i fatti e poi prendo parte a questa cosa qua magari mi rivedo la live e poi dico ok in questo caso è stato è stato proprio un'ingiustizia hai capito Luca quindi prepara le prove e la prossima volta che incontri Alan a qualche fiera da qualche parte gli potrai fare la foto col cartello se l'avrai convinto esatto 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 mi sembrava un ottimo compromesso devo dire strumento di lavoro preferito è questa che è la cosa più banale ma è la cosa che mi tiene più compagnia è praticamente una penna una penna digitale per poter disegnare sulle tavolotte questa è quella che praticamente è in contatto in contatto tutto il giorno però è un strumento splendido è tipo il prolungamento del tuo braccio praticamente sì quindi l'hanno inventata grazie a Dio che l'hanno inventata perché mi ha permesso di lavorare e entrare nel modo digitale tutto quello che poi comporta piuttosto che le micromine e poi temperare con questo fai tutto dall'acquerello alla matita grassa al carboncino e tutto qua dentro amico per le penne dice Mr. Z amico di penna vabbè basta mi fate vi fate essere freddurista anche a me cosa essere matita grassa chiedono è una matita è una matita che aspetta adesso magari in realtà la usavo per incisione perché nella scuola ho fatto anche incisione quindi hai una matita che ha un al posto della della grafite ha un grasso quindi è semplicemente nera che sparge il grasso perché tu quando vai a fare dei tipi di stampa tipo sulla pietra poi quando vai a mettere sulla tua matrice l'inchiostro per poi metterci la carta e stampare una litografia dove c'è il grasso in realtà scivola l'inchiostro quindi lavori in negativo ok intrigante no è stata una spiegazione intrigante ti sei spiegato benissimo ah ma il mondo io ho fatto a Urbino una scuola e abbiamo fatto negli anni anche incisioni quindi litografia oddio gli altri non me le ricordo adesso però mi hai fatto ricordare una cosa che ancora non è uscita fuori che tu insegni anche sì 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 insegno insegno alla scuola di Reggio Emilia insegno il terzo anno di concept artist che è legato più ai videogame ma in questo caso io sono specializzato ai ragazzi di fare un corso intensivo di circa due mesi di T-Brush che è il programma con cui uso per scolpire solo che oltre che scolpire lo si usa come supporto alla concept artist cioè quindi tu crei i modelli riesci a un alieno a crearlo direttamente in 3D e poi quel 3D viene magari viene 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 tolta la risoluzione e può andare a finire per un modello per il videogame e soprattutto il concept artist è un altro tipo non è neanche un illustratore è uno che deve creare concetti che poi qualcun altro poi deve sviluppare quindi il programma in questo caso di modellazione 3D è usato ai fini del avere tanti bozzetti che sono cose reali che possono funzionare in 3D perché essendo il mondo di videogame soprattutto veicolato da la 3D grafica ti permette di avere qualcosa di più reale e quindi in questo caso comincio tra due settimane a Reggio Emilia e ho questi ragazzi che praticamente sono a un passo da diventare nel mondo a entrare nel mondo del lavoro e quindi gli diamo queste ultime skill per poter essere fenomenali si può dire la scuola? si si la scuola internazionale di comics di Reggio Emilia conosciate tutti immagino almeno di nome si alla fine è stata la scuola poi che mi ha formato l'ho fatto prima come studente poi ho fatto i corsi di scultura analogica quando ancora il programma ZBrush non esisteva perché io ho fatto per un periodo lavoravo scolpendo uno a uno le miniature poi come è arrivato la pittura digitale è arrivata anche la scultura digitale in quel momento poi mi sono aggiornato tornando di nuovo nel 2016 a scuola adesso scolpisco in digitale però adesso insegno alla stessa scuola che ho frequentato in un'altra sedi perché hanno varie sedi sparse per l'Italia sì di solito anche nelle fiere più grandi c'è almeno a Romics c'è sempre c'è sempre stato lo stand della scuola internazionale di comics esatto alla Play c'è proprio la scuola internazionale di comics di Reggio Emilia perché essendo la vicinanza loro hanno sempre uno stand in cui li puoi andare a parlarci li puoi andare a provare e secondo me è una scuola a differenza dell'accademia che ti porta in un altro ambito d'arte la scuola internazionale è fenomenale perché hai professionisti che insegnano non hai insegnanti hai professionisti che fanno sempre l'insegnamento come secondo lavoro cioè vuol dire che loro insegnano magari uno due giorni a settimana a te ma il tempo del loro lavoro lo passano a produrre e rimanere coi piedi nel mercato nel mondo del lavoro e quindi poi ti insegnano le cose esattamente come si fanno e come come le vivono anche dal mondo del lavoro quindi è doppiamente utile come cosa e poi ti danno i primi contatti io il mio primo lavoro per il mio primo lavoro che ho avuto nel mondo dei giochi da tavolo è stato proprio da un mio insegnante di scuola di comics al terzo anno mi ha dato al tempo feci come primo lavoro il signore dei draghi della 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 del Dusty Work che è la prima casa che aveva pubblicato in Italia a Draco e lì è stato il mio primo lavoro passato dal professore che mi seguiva che un giorno mi disse Alan tu che sei un giocatore questi vogliono un gioco da tavolo un gioco di carte fallo te tieni ti do tutto tutto in mano ringrazio ancora Bianchini che mi ha passato il mio primo il mio primo lavoro in questo campo in modo di giocare a tavola e poi da lì non mi sono più fermato che meraviglia ti saluta Alberto che ci teneva a passare a salutarti Alberto dei giocaggiullari tra l'altro hai anche disegnato qualcosa anche l'età vedi in realtà ho la tazza fatta per i giocaggiullari che giustamente ho preso una copia in cui vedi come la uso anche in altre situazioni vedi Albe ecco e allora fammi scegliere qua ecco visto che stasera ne sono uscite tantissime di freddure la tua freddura o barzelletta preferita ragazzi non erano domande così cattive l'altra volta no non è vero c'è sempre stata una delle domande cattive non diciamo non diciamo cavolate la mia battuta preferita guarda ti giuro adesso non me ne viene in mente però io per esempio ce l'ho quella che dico che la dico anche sempre più spesso proprio direttamente da mio papà che vitaccia disse il cacciavite ragazzi qua è duro oggi questa è la mia preferita adesso su un momento passo che preferisco mantenere io preferisco mantenere dignità qui in questa situazione che non quello racconto di prima quindi passo passo va bene se ti viene in mente puoi dirla in qualsiasi momento ci accontentiamo ci accontentiamo sono contenta teo a me ha fatto riderissimo bene ho preso dei punti che bello puoi raccontare il cosplay al posto della barzelletta dice Fabio questo me la devo giocare in un'altra occasione oggi ho già dato ho già dato va bene va bene non ti preoccupare Fabio verrà organizzata qualcosa un tasso un altro tasso ma tu le paghi le tasse no io piaccio regia allora cosa sta succedendo andiamo avanti molli tutto per aprire che cosa molli tutto quindi quindi madonna difficile difficile una piscina una piscina cioè gestisco una piscina per gestire una piscina all'aperto o al chiuso o tutte e due che c'è che d'estate è all'aperto no all'aperto all'aperto perché così dopo faccio lavoro tanto d'estate poi d'inverno non vedo più nessuno ah lavoro stagionale poi d'inverno vai in un posto esotico caldo esatto 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 è interessante interessante vedi io avrei detto una cartolibreria ma se molli tutto così non è mollare tutto no una cartolibreria ma proprio c'è penne evidenziatori ti devo vendere i quaderni eh ma mollo tutto vuol dire proprio che tutto il mio percorso tutto il mio percorso della vita devo prenderlo buttarlo nel cestino e essere una persona nuova totale quindi hai ragione niente non ci deve centrare sei stato più bravo di me va bene va bene lo accetto lo accetto le vendi le matite grasse sì nel caso nella cartolina e libreria venderei anche le matite grasse presumo dove si comprano eh ci sono dei negozi a posto dove c'hanno tutti strumenti per per incidere per tipo bulino il bulino è uno strumento incisione in cui tu eh devi farlo su una lastra questo bulino graffia la lastra in modo che l'inchiostro viene assorbito da questa tua due solchi e quando stampi la carta la carta ha il ha solo il tratto nero dove hai raschiato questa è una sul metallo non mi ricordo più però i nomi non me li ricordo i tecnici però insomma ce ne sono nei negozi particolari di belle arti specializzate nelle incisioni il bulino sì impariamo parole nuove che bello libro preferito eh preferito in assoluto allora eh o del momento scegli tu del momento allora sono rimasto molto affascinato da sono un fan di Baricco però l'ultimo eh che casualmente sembra a tema però si chiama proprio The Game solo che il The Game è legato a al concetto di internet in questi ultimi trent'anni cioè l'evoluzione dall'avvento di internet della nostra della civiltà i passaggi e il perché sono andati a finire in certi contesti o il perché abbiamo scelto a un certo punto dopo il novecento di affrontare un nuovo percorso che ci ha portato a creare internet è un libertino molto molto bello e come incipit è molto interessante perché a un certo punto dici Baricco fa questo 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 inizio dice ok ti dà una lista e ti dice ok Snapchat Whatsapp Facebook ok quanto tempo passi con questi elementi con questi con queste app e poi ti dice ma quando queste app non esistevano tu cosa facevi e ti fa capire dice ok quanto sono invasive nel senso buono e quindi da lì poi fa un percorso molto molto bello piccolino però se lo consiglio mi ha veramente colpito tanto che in realtà l'ho letto l'ho letto non in maniera molto vicina perché ogni volta che c'era un capitolo era bello proprio lasciarlo un po' lì decantare perché sono concetti molto interessati ma secondo me radicarsi bene dentro perché magari anche a prima lettura gli dai un cioè lo percepisci in un modo poi magari dopo qualche giorno si è interiorizzato in maniera totalmente diversa perché era proprio interessante per capire un po' come siamo adesso e il perché siamo arrivati alla tecnologia che abbiamo adesso tutto qua questo è Tribreso dice se fosse nato 300 anni fa sarebbe stato barocco va bene siamo avanti ma non l'ho capito lasciamo stare continuano a tirar fuori i freddure ah madonna è così è così Alan qua è così benvenuto benvenuto a casa mia ma è tutta colpa di Teo che lui farà sicuramente la prepista non leggo la chat però so che colpa di Teo ma non credere non credere no e invece una citazione preferita ce l'hai? citazione di film di canzoni o a me fa impazzire sempre una musica può fare salvarti solo del precipizio non si si può lamentare ecco e via e via sempre colpa a prescindere sempre colpa di recezione di minute esatto coi prezzi del gas basta con queste freddure dice Silvano giustamente cantiamola please ma scusami devo stare dietro anche la chat ti lascio la voce cambale basta fatto è fatto va bene così va bene così se dovessi scegliere il cattivo più cattivo di tutti chi sarebbe? più cattivo di tutti ma cattivo quindi cattivo il villain il villain però dico adesso teoricamente il mio preferito è Thanos nel senso penso che sia preferito di molti però non è proprio un cattivo quello è un cattivo che c'ha in qualche modo poi vabbè Thanos rimango Thanos Thanos ho capito cosa intendevi dire sì nel senso che come dire ormai i cattivi degli ultimi anni non sono tagliati con l'accetta se non avere sempre una parte in cui ti puoi in qualche modo in cui gli puoi dare anche un po' di di dubbio quindi Thanos è forse figlio dei nostri tempi sono affascinanti anche un po' per quello sì ecco perché il cattivo è sempre più affascinante che comunque in qualche modo ti viene voglia di dargli ragione su certi aspetti dal suo punto di vista seppur sbagliato potrebbe avere ragione cioè concettualmente anzi per molto ci puntano molto alla fine in cui dicono ok ma veramente ha fatto una cosa bruttissima ma lo faceva per un fine superiore che poi giustamente si può anche ragionarci sopra però lui era nel giusto però a differenza di altri cattivi in cui sono cattive basta lì c'era un discorso più dietro c'era un pensiero le risorse limitate sul resto gorro il macellatore di dei anche top dice silvano è un po' che non vediamo evil giula e silvia col cappello che sono le nostre controparti cattive la chat dice alcuni in chat dicono che sono quelle le cattive più cattive classe e razza di dnd visto che sei stato un grande giocatore di dnd e lo sei ancora immagino in realtà ho fatto una pausa ho fatto una pausa per tantissimo tempo anche perché ho fatto veramente in digestione dei giochi di ruolo quindi al tempo ero ero un elfing ladro un classico adesso passato passata sono passati tipo non so tipo 15 anni dall'ultima giocata l'ho fatta al mese scorso e ho scelto un mago elfo un mago elfo altezzoso come per dire come si cambia in base a e c'è e ci sta sì sì prima ero ero un ragazzino voleva l'elfing voleva fare l'elfing ladro adesso l'idea di essere un mago anche che giustamente vicino a dei a dei barbari rozzi un po' è sdegnato mi ha mi ha intricato è interessante il mago elfo mago elfo cuore di 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 cetania infatti sigla dei cartoni animati preferita allora dal punto di vista allora dal punto di vista musicale nonostante non sia appassionato di di robottoni almeno di quell'epoca Daitan per me musicalmente è ancora spettacolare c'ha un riff c'ha un basso su quello su invece della mia epoca anche tartaruga ninja la riscossa era una bella sigla tartaruga ninja e Daitan ci sta ci sta se dovessi invece vivere in un gioco o in un videogioco quale sarebbe? allora ritorno alla mia passione sarebbe Mordheim che è un gioco sempre a game wash inventato in questa in questa città dove dove c'è stata una piccola apocalisse e tu sei un avventuriero che deve cercare di scoprire il mistero di questa città e rubare più tesoro di questa particolare pietra che è rimasta nella città ok non sai come è il gioco che ti aspettavi un gioco da tavola esatto no invece no io non mi aspetto mai niente ho imparato a non aspettarmi mai niente no però cercavo di capire se l'uomo avevo mai sentito o meno e non mi sembra di averlo mai sentito no è un gioco del 1990 che è andato fuori produzione ma è stato talmente amato il tutore amato Mordheim che la gente continua a giocarlo perché giustamente anche se una cosa come Katana esce di produzione ma la gente lo ama continua a giocarlo il bello dell'analogico quindi ci sono grandissimi appassionati che hanno portato avanti questo gioco senza che la casa lo supportasse più quindi fa capire che la passione che la passione porta avanti i giochi senza che l'autore la casa editrice ancora lo come è successo con Ero questo alla fine è lo stesso chiaro che poi dopo tanti anni finalmente è stato mandato in ristampa perché noi ci dimentichiamo che noi abbiamo una scatola ma questa scatola nessuna ce la può togliere di continuare a giocare diciamo io sono un pochino più un pochino più titubante sulle app proprio perché l'app tolgono questo super potere i giochi da tavolo perché l'app potrebbe essere un più aggiornata giustamente dopo trent'anni magari anche i device che usi come Atmosphere quella cassettina che non abbiamo più mangiano altri poi è arrivato il DVD non c'è più neanche il DVD quello può è un gioco che è figlio della sua epoca invece un qualsiasi gioco da tavolo totalmente analogico ha questo super potere poi che sono d'accordo che poi ci sono dei giochi da tavolo che migliorano con l'app però è bello è un discorso è una linea molto sottile io ho capito cosa intendi tu cosa intendi dire tu è una linea molto sottile è ovvio che con poi l'andare avanti il progresso delle tecnologie le cose eccetera eccetera è normale che continueremo a vedere sempre più giochi integrati con l'app applicazione comprendo la paura paura tra virgolette non è la parola esatta esatto il dispiacere che ci potrebbe essere nel non veder dopo totto tempo più aggiornata aggiornata l'app chissà però che non venga implementato qualcos'altro per non farle perdere più chissà certo c'è ancora il retro game posso giocare ancora Monkey Island esatto tra l'altro altri giochi per l'amica però c'è sempre un discorso tipo io vorrei giocare adesso con giochi dell'amica devo sempre impegnarmi a cercare l'emulatore certo se ci sono le retro game tipo devo giocare con il nintendo devo avere per forza un televisore col tubo catodico cioè nel senso si può fare ma si deve un po' impegnare un po' di più capito chiaro chiaro ma infatti ho capito perfettamente è appunto una linea molto molto sottile in cui non si sta dicendo una cosa è meglio dell'altra no perfetto giula ho detto bakemono che fai mi sgridi scrivi giula così dal nulla l'amica ah scusa non avevo capito fabbio vabbè ragazzi state proprio non vi leggo più guarda non vi leggo più c'è una pedina o un meeple strano che hai se ne hai diversi qual è il più strano che hai allora togliendo le miniature perché lì ogni ogni togliendo le miniature in questo caso ma più strano che ho o il tuo preferito ma dico una cosa banale però lo so ma l'icona l'icona del meeple di carcassone è imbattibile cioè ancora lo adoro cioè pensare che hanno creato un omino che è diventato un'icona lo so che non è la cosa più particolare però se dovessi scegliere di prendere solo un meeple tra tutto un meeple una pedina iconografica su tutto il nostro mondo prenderei quello perché veramente ha creato tutto quello che abbiamo come iconografia cioè normale quindi eh sì è forse tra i simboli più più famosi cioè da punto di vista di design cioè creare un personaggino che poi non ha neanche la testa se noi analizziamo il meeple non è un essere umano è un'altra cosa però ha le curve è tutto adesso giustamente vai a fare dietrologia perché siamo abituati ormai a meeple tagliati con il taglio all'ase e il resto però prendiamo l'immagine del 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 classico di carcassonne sì il meeple è fatto apposto perché aveva una base piatta le gambe e poi queste linee ondulate che è fatto dal meeple è perché al tempo il tornio poteva non poteva fare gli angoli netti quindi con un unico taglio poteva fare il meeple quindi l'idea è che non ha il colo non ha la testa le braccia tonde è tutto dovuto a la lavorazione la lavorazione del tempo che poi è migliorata però hanno fatto un lavoro perfetto di design come può essere attualmente anche il caramatino di risico che sono diventati iconografici quindi per me quello è ancora inarrivabile come come design come elemento di design ok così ci sto bellissimo e grazie anche della spiegazione perché è super interessante sicuramente è una curiosità che non tutti non tutti sapevamo c'è un regolamento che odi? odio odio diciamo che no non è che l'ultimo forse per esperienza l'ultimo che ho letto è stato un gioco che si chiama Project L che in realtà è un gioco semplicissimo però l'ho trovato molto ostico come lettura usava delle frasi che erano un po' ombrose quello l'unico che mi ha fatto mi ha fatto un po' strano dovevamo fare un gioco veloce che alla fine è un pseudo film è velocissimo tra l'altro però eravamo lì dice ok ma qui esattamente cosa vuol dire quindi cosa è successo non era proprio chiaro chiaro i passaggi quindi quello solo per dal punto di vista temporale che è l'ultimo che sono rimasto così un po' così di solito do sempre la colpa alla mia intelligenza però eravamo in un tavolo da quattro quattro hanno hanno confermato che era un po' ostica come passaggio e quindi e quindi certo un conto poi è una cosa magari non è da tutti puoi chiedere anche ad altri perché questo significa uscire dalla soggettività e andare all'oggettività cioè posso aver trovato una cosa ostica io allora chiedo informazioni ad altri per sapere voi come vi siete trovati questa cosa in questa maniera diventa una cosa oggettiva partendo dalla soggettività ma non hai detto non sei arrivato a gamba tesa dicendo questo regolamento è il più schifoso del mondo magari hanno beccato come come prova quattro persone che magari erano in capaccia quindi oddio quando uno dice oh ma strano che sto gioco quando sto gioco che sto gioco è brutto perché io ho giocato con i miei amici non è piaciuto nessuno va bene ma siete quattro e magari il gioco è famosissimo magari non siete quattro di quella tipologia ah no perché l'esperienza è sempre un po' soggettiva perché se io non mi sono divertito e i miei amici confermano la cosa allora vuol dire che è brutto no però è personale è un punto di vista personale certo certo è stato chiarissimo è stato chiarissimo ti faccio l'ultima domanda prima di passare alle domande veloci quindi la vado a scegliere fammi vedere qua ne ho un botto di solito ne preparo 50 per la serata e poi le scelgo durante la serata vedo come si mettono per il tempo vabbè concludiamo con questa che alla fine non l'ho fatta a nessuno la faccio a te ah grazie prego cosa ne pensi dei nani da giardino questa può essere anche molto filosofica sono terrificanti sono terrificanti terrificanti e non sono inclusivi è vero penso fosse un riferimento al fatto che deve uscire il live action di Biancaneve ah no 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 sono inquietanti non vorrei andare a derubare diciamo che non vorrei andare a derubare in una casa dove ci sono i nani da giardino fuori è uscito l'elfling ladro di cui parlavamo prima però insomma penso penso che fugono più da antifurto che da altro che da ormamento eh ti tengono lontani sono tutti d'accordo con te come faresti i tuoi nani da giardino chiedono attenzione non come nani devo fare per forza i nani? no come faresti i tuoi nani da giardino? eh non devono essere per forza i nani di Biancaneve eh non lo so non mi viene in me penso penso ma devo per forza mettere qualcosa di figurativo dentro un giardino cioè ma è questa è la vera domanda cioè nel senso perché devo mettere un'aquila? perché devo mettere una ragazza che funge da cioè penso che ormai abbiamo passato i classici il neoclassicismo abbiamo passato questa fase possiamo anche lasciare indietro cioè i meeple da giardino suggeriscono eh potrebbe piuttosto magari un'aiuola tagliata a forma di meeple sarebbe stato meno inquietante capito? l'aiuola tagliata a forma di meeple è interessante ad averci il giardino eh sì ad averci la voglia di tagliare poi soprattutto esatto noi abbiamo il manichino di una donna nuda cosa? Annie ti ho letto mannaggia io mister Zio dice io come quello della pubblicità puzza 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 che puzza della fossa violotti è vero erano nani da giardino in quella pubblicità terribile foto non è vero intanto vabbè fatevi gli affari vostri qua prepariamo per le 15 domande veloci Alan siccome ci vede lungo non ha dichiarato molto anche se poi oggi sotto il post di facebook ho visto lanciarsi frecciatine con gli altri partecipanti con Manuele con Luigi ho visto ma in realtà Alan non ha voluto dichiarare niente prima di questa gara dicendo proprio per non fare il passo più lungo della gamba in modo tale da non portarsi sfiga da solo e a me questa sembra un'ottima strategia sembra abbassare le aspettative sempre abbassare le aspettative sempre perfetto quindi io faccio apparire il timer e lo vado anche a preparare per farlo partire sei pronto Alan? sì ok allora tra poco aspetta che metto il foglio giustamente perché c'ho di qua così me lo copro intanto non ti possono suggerire adesso dopo questo copro il tempo così copri il tempo così non ti mette ansia ci sta ok va bene allora al mio 3 faccio partire il timer 1 2 3 matite o pennarelli? matita cani o gatti ne hai 1? gatto 1 non c'è nessuno non l'avevo no sei caloroso o freddoloso? caloroso per autore colore o dimensione come ordini la tua libreria? dimensione serata in solitario libro game o videogioco? libro game treno o aereo? treno blum o stella? quale winks preferisci? capelli arancioni capelli blum 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 stella è la protagonista non so se va a nessuno sì alba o tramonto alba tramonto 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 camera scrivania o macchina quale pulisci di più? scrivania simula di rispondere al telefono pronto perfetto iron man o capitano america? iron man cena fuori o delivery a casa? cena fuori carta imbustate sì o no? imbustate lato oscuro o lato chiaro? lato oscuro scarpe da ginnastica o scarpe eleganti? ginnastica sei stato velocissimo quanto ho fatto? un minuto e quattro per sei secondi sei secondi ho battuto tutti cioè sapeva a memoria anche i risultati degli altri attenzione ho visto oggi pomeriggio con Luigi anche perché Luigi è arrivato nel mio commento su facebook fa non mi batterai e invece e invece Alan batte tutti si posiziona primo in classifica guarda adesso cambiamo schermata così faccio apparire la classifica ho vinto qualche cosa Manuel è contento nel frattempo perché è così è ufficialmente ultimo e quindi Luigi scammato da non mi fa perdere tempo perché dice che gli ho fatto perdere tempo io ho capito ma lui tra team topolino e team paperino mi ha detto team topolino ma io come faccio a parlarci ancora ma chi sono simpatici topi non capisco ma come si fa a essere team topolino scusate se li meritava quei sei secondi in più scusami Manuel è il tananai di Dungeon Ice città Sanremo da parte di Silvano favoloso fantastico perfetto allora faccio apparire la classifica eccola qua in cui guarda la possiamo anche andare a modificare e così ci mettiamo direttamente che hai vinto lo facciamo vedere in grafica il vincitore direttamente soddisfazione ecco qua primo Alan d'amico ragazzi non inserirò il tempo ma inserirò il nome ecco qua lo vedete sicuramente lo vedete anche voi tipo il topolino divinità degli scaven ecco attenzione ecco qua citto livello supremo si vede perfetto Fabio quindi è ufficiale ragazzi questa è la classifica ufficiale che poi magari pubblichiamo dopo la condivido anche sul gruppo Telegram se fate punto esclamativo Telegram se ancora non siete parte del gruppo la troverete anche là e adesso grazie grazie mod adesso la farò sparire questa classifica quindi Alan intanto si porta un grandissimo risultato a casa questa sera come vincitore di out of the box delle domande veloci e faccio apparire qua qualche immagine di tuoi lavori sì sì sono in fila questo sì le ho messe le ho messe un pochino in ordine più o meno cioè più o meno vanno a settori diciamo certo no questa è una miniatura fatta per katana ma è interessante perché non non certe volte io faccio i concept e poi realizzo le miniature dei miei concept ma non sempre io lavoro sui miei disegni spesso lavoro su disegni di altri illustratori quindi in questo caso in katana il la disegnatrice si chiama georgia lanza e aveva uno stile molto particolare quindi mi è stato chiesto di seguire il più possibile lo stile di georgia quello che vedete sulla copertina di katana e su tutte le illustrazioni quindi è stato duro lavorare per cercare di ricreare esattamente il suo stile che è uno stile molto spigoloso e questo sono le correzioni fatte da da Sara da Sara da Sara di Postcriptum in cui mi fa notare come il disegno a sinistra di georgia e la miniatura quindi il prototipo le prove non andava bene perché era troppo gommoso quindi dopo queste ottime ottimi suggerimenti si è preso a fare a lavorare e fare un passaggio ulteriore di rifinitura dove tutti i spigoli erano veramente giusti quindi la mano anche la nocca della mano era quasi un angolo retto e da lì poi sono venute fuori le miniature che vedete nel gioco quindi è interessante vedere come poi non tutto viene al primo colpo ma almeno per la prima miniatura in assoluto che è questa di katana quindi a sinistra il disegno di georgia e a fianco poi la scultura finita dove adesso è veramente la trasposizione in 3d del disegno di georgia e in questo caso ricordiamo che questa questa pedina di katana è alta due centimetri e qualcosina quindi è una pedina proprio e quindi questo è piccolissimo sono pedine alla fine sono lavoratori quindi hanno quella dimensione proprio perché è un gioco classico chiamiamolo tedesco e quindi hai tanti di questi lavoratori ognuno fa una funzione diversa se nel medioevo giapponese gestisci una una fucina una fucina e devi cercare di creare le katane migliori e loro sono in questo caso dei lavoratori che ti aiutano nel tuo compimento dei tuoi punteggi a fine partita mentre noi continuiamo a chiacchierare vediamo un po' di immagini chiedo ai moderatori di scrivere le tre domande finali e di far partire poi il sondaggio in modo che intanto voi rispondete eccetera eccetera tu guarda pure la live senza leggere la chat e quindi copro metto il foglio così non vedo perché sennò non so che immagini stai facendo quindi tocca ho già studiato di coprire metà foglio in modo che cioè ragazzi la professionalità la professionalità qua un'ultima puntata coi fiocchi e questa è un'altra miniatura sempre di katana si aspetta c'è un leggero lag sicuramente si soprattutto avevo la pubblicità in mezzo ah mannaggia e si questa è un'altra 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 miniatura in cui vediamo un po' il confronto tra il disegno e l'illustrazione qua può essere utile come riferimento come esempio perché poi si vede un po' anche la sintesi che bisogna realizzare tra una versione 2D e poi l'effettiva scultura che poi deve essere stampata perché esempio in questo particolare caso il bastone del dell'ombrello se vedi solo la miniatura è enorme cioè lei sembra di tenere quasi un palo della luce talmente grande solo che è una sintesi fatta per essere uno leggibile in piccolo in questo caso nei due centimetri un po' secondo per non essere troppo fragile o meglio non essere talmente sottile che poi una plastica lo fa storgere tipo spade di barbari curvi o il resto quindi queste accortezze che uno scultore in questo caso legato alle miniature o al mondo del giocatore a tavolo deve tener conto perché deve pensare sempre al risultato finale deve sempre tenere presente il il modello finale e la giocabilità o l'ergonomia più che la giocabilità perché e quindi questo è un altro esempio su come e questo poi è la panoramica la panoramica del gioco che tra un po' non vedo l'ora di toccarlo con mano perché è stato veramente un progetto coi fiocchi insomma è stato questo invece questo invece qualcuno ti faceva i complimenti prima Annie nello specifico è la lavorazione per le mura di Alessia giusto e all'inizio tu ho notato da queste immagini che mi hai girato tu era totalmente un altro gioco c'è un'altra ambientazione certo certo questo è stato fatto da Francesco e Dario Francesco Testini e Dario Massaretti spero non mi ricordo come si come ah sì ce l'ho qua perché Dario Massaretti e Francesco Testini perché giustamente i nomi dopo un po' mi sfuggono ed è interessante come vedere anche che certe volte mi si dà anche l'impegno di cercare un'ambientazione adatta al prodotto perché in primis chi crea giochi da tavolo certe volte danno un'ambientazione posticcia perché in quel momento il regolamento deve emergere più che dell'ambientazione perché l'ambientazione la può cambiare l'editore in questo caso Francesco è stato un gran appassionato di 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 verso scusami di cultura cinese e quindi hanno hanno messo in questo gioco che al tempo si chiamava le mura la muraglia cinese infatti vediamo che il primo prototipo di Francesco e Dario era fatto da un'ambientazione della grande muraglia solo che a un certo punto quando è arrivato in mano mia gli ho fatto un'analisi diciamo di mercato e abbiamo cercato di analizzare se questo questo questa ambientazione fosse ancora papabile ho fatto portare sia ai ragazzi di io gioco in questo caso massimiliano che e agli autori che attualmente la muraglia cinese è stata un po' inflazionata a causa del gioco The Great Wall uscito da poco tempo è un gioco proprio dedicato alla muraglia cinese e aveva anche delle assonanze in cui tu costruisci un muro si collabora per costruire il muro ma poi avevi l'invasore e tutti dovevano cercare di combattere contro l'invasore quindi avevi una parte in cui tu dovevi essere il più bravo a costruire il muro ma una parte quindi competitiva e l'altra parte in cui dovevi in qualche modo fare collaborazione col tuo avversario per difenderti dagli avversari gli ho fatto notare questo e quindi hanno detto sì in effetti tra le cose potrebbe essere un pochino più un pochino più non dico svilente però un pochino più infrazionato come termine quindi a un certo punto gli ho proposto varie idee tra cui anche la stessa muralia dice facciamo delle proposte manteniamo la stessa ambientazione creiamo altre ambientazioni tra cui uno era le mura di Alesia e l'altro addirittura avevo osato perché comunque sono artista devo provarlo sempre a usare anche sotto consiglio della mia ragazza l'idea di fare una cosa legata a Peter Pan cioè siccome in questo gioco devi costruire una muraglia e puoi essere attaccato dagli altri uno era la moglie alla cinese uno era le mura dell'Alesia che poi l'altro era l'idea che tu eri i bimbi sperduti che costruivi due muraglie e veniva attaccato dai pirati di Capitanoncino che era un salto un po' troppo lontano da quello che poi c'era una cosa un pochino più pazza una mentatena un pochino più pazza però era figa interessante a un certo punto si è scelto sulle mura di Alesia e quindi poi tutto si è ragionato quindi si è si è cambiato i termini si è cercato anche grazie a dei collaboratori dei esperti storici sui giusti nomi le giuste armature poi io avevo già un bagaglio culturale in cui sapevo di distinguere tra un ausiliare e un legionario e un tiro e in questo caso dopo ho bisogno di conferma per dire che magari io posso sbagliare quindi qualcuno più esperto di me mi deve dare nulla a osto che le scelte mie sono comunque corrette poi come sempre come discorso di prima è un gioco ambientato in un'epoca storica ma non un gioco storico quindi certe libertà te le prendi pure per rendere più accattivante il prodotto e quindi si è scelto su farlo cartoon è legato alla battaglia tra Giulio Cesare e Vercingetorige quindi ritorno al discorso in cui nella battaglia di Vercingetorige Vercingetorige si chiuso e dentro Alesia e quindi cosa ha fatto Giulio Cesare per sconfiggerlo ha creato un muro che bloccasse Vercingetorige il capo dei Galli dentro la sua città poi ha fatto un altro muro opposto per difendersi dall'assalto di tutti i compagni che potevano caricare con la cavalleria cioè degli aiutanti di Scenetorige quindi da questa idea si è ambientato si è dato al gioco e si è realizzata tutta la grafica legata a questa nuova ambientazione con l'approvazione degli autori del gioco perché giustamente a me fa piacere che tutti siano contenti e quindi si propone e poi va ai vari passaggi da lì poi è uscito questo prodotto che ricordiamo ce l'ho casualmente ce l'ho qua è un gioco che poi ce l'ho anch'io è carino perché è stato cioè è tuttora in regalo con gli abbonati di Io Gioco quindi se ti abboni hai gratis di solo pagare spese di spedizione per farvi arrivare a casa però hai questo piccolo gioco di due giocatori uno contro l'altro in cui devi in qualche modo costruire il muro e farlo e farti bello davanti a Giulio Cesare per aver fatto il muro più grande ma al contempo unire alle forze dei galli che cercano di assediarli sia dal punto di vista di Vercingetorice e quello dei galli che ancora sono fuori dalla città di Alesia così e quindi alla fine è divertente anche questo che poi dopo le regole poi cercano di dare un contributo scusami le ambientazioni dà un contributo a veicolare le regole anche perché inizialmente c'era un fatto problematico secondo me che avevo evidenziato in cui con la muraglia cinese in realtà tutti la pensano come un'unica muraglia solo che in questo gioco ognuno costruiva la sua muraglia quindi ha ancora più senso diciamo esatto si sposava ancora meglio con questa ambientazione c'è chi ti farebbe parlare fino a domani che ti ascolterebbe parlare fino a domani parlano benissimo delle muraglia di Alesia chi l'ha provato e Annie nello specifico che ne ha parlato molto bene delle muraglia di Alesia se siete abbonati a Io Gioco o volete pensate di farlo sappiate che insomma vi arriva vi arriva in regalo con l'abbonamento le muraglia di Alesia che è veramente piccolino cioè è proprio super tascabile e poi è anche un bel gioco con tutta questa storia poi che abbiamo scoperto dietro le quinte di tutto il percorso per arrivare poi alle muraglia di Alesia ancora più interessante ho letto il risultato del sondaggio non vi preoccupate messaggio ricevuto e arriverà la domanda finale non prima di avervi fatto vedere anche un po' di altre lavorazioni e questo è un altro gioco che so sono certa farà impazzire Annie perché lo adora che è Wendaki Wendaki lo pronuncio sempre male va bene e qua c'è tutta la lavorazione della copertina no? sì avevo pensato che era l'occasione giusta per per far vedere un po' come nasce anche una copertina una cover quindi avevo nel mio archivio questa serie di immagini che per me era era perfetto per far vedere come nasce anche poi un gioco che è diventato famoso come Wendaki quindi questi sono i primi sei bozzetti che l'editore in questo caso Mario e il suo staff hanno visionato e da lì poi hanno scelto una copertina che diventasse poi quella vera quindi in questo caso era la sesta cioè il numero sei si è scelto quella perché c'era dietro le cascate del Niagara si vedeva lei la coltivatrice dietro l'indiano e poi si sono passati si è passato pian piano sempre a rifinire la matita quindi nel passaggio dopo si ha il bozzetto in scala reale diciamo della formato della cover quindi con un abbozzo che al tempo Paolo Valerga fece per il titolo il primo abbozzo per capire un po' come poteva funzionare e quindi si incomincia pian piano ad andare a step e far vedere al cliente i vari step di lavoro e con tutte le i cambi del caso quindi in questo caso così il cliente può se fosse aggiustare il tiro e quindi spostare sempre il la copertina per i suoi gusti in questo caso quasi incomincia a fare la colorazione qua tipo io avevo tutto c'è la zona sotto l'indiano che è pieno di zucche in questo caso li ho fatto vedere e loro hanno visto che le zucche troppe anche se le zucche è realmente così sparpagliate è terribile visivamente brutto perché sono sembrano abbandonate sono così e quindi sembrava un po' troppo rindondanti queste zucche quindi col passaggio successivo pian piano le ho tolte per renderle solo un elemento non troppo invasivo e quindi pian piano e questo è il passaggio successivo sì e questo poi è il passaggio finale quello che è poi è effettivamente la copertina di Wendake però fa i vari passaggi e da quello poi diciamo il cliente riesce a vedere pian piano che viene fuori il suo prodotto come piace a lui e quindi c'è sempre uno scambio perché certe volte l'autore dà l'autore o l'editore o quello che ti danno dei feedback che certe volte tu l'illustratore non ci facevi caso magari quindi alla fine viene fuori se vuoi a un certo punto vuoi veicolare un'idea esempio qua la ragazza è diventata un pochino più grande perché gli vogliono dare più importanza e qui è come avviene poi il processo di una copertina che non è mai che il disegnatore sparisce e poi riappare con una cover finita è sempre un lavoro di certo chiaro vi faccio vedere poi un po' di immagini un po' più velocemente non mi ero accorta dell'orario ero completamente persa in tutti i nostri racconti questa in realtà è un'immagine che tu utilizzi poi anche sì che vorrò cambiare a breve perché se vedete il colore dei miei capelli è leggermente schiarito negli ultimi tempi e quindi questo era ecco ritornando al discorso vuoi una battuta brutta? sì questa è una battuta brutta perché questo cosa sarebbe? sarebbe un co-alan l'abbiamo avuto la nostra apertura ragazzi il co-alan a questo punto mia sorella mi faceva questa battuta e dice vabbè disegniamolo e quindi questo è diventato un po' il simbolo che forse nel giro di un paio di mesi lo aggiornerò non questo disegno ma magari farò un altro un altro mio avatar perché perché ha il suo tempo diciamo il co-alan perfetto puoi comunque puoi rileggere la chat perché tanto lo so solo io adesso la domanda che stanno tutti facendo i complimenti per co-alan queste invece sono due immagini grazie Fabio per il beat due immagini questa e la successiva che vi faccio vedere che vengono proprio da Ratman che ci dicevi prima e qua c'è la pizzeria d'amico sì perché anche se sei un artista e tutto non è detto che tu possa prendere delle libertà quindi in realtà ho messo l'amico pizza tra i cartelloni della strada per riferimento alla pizzeria di mio padre al ristorante di mio padre e quindi quindi è stata una citazione perché alla fine mio padre è pizzaiolo e quindi se passerete e vedete il cartone animato sapete che lì ci sono passato che figo che bello poter fare queste cose cioè questa è proprio una cosa che poi ti porti nel cuore dai sì sì ci divertiamo tu qualsiasi artista che faccia comunque anche chi faceva i crocifissi o chi faceva le cose sacre metteva qualcosa di suo e si divertiva nella sua maniera e quindi in questo caso piccoli 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 inserti ti svoltavano la giornata ti davano la voglia di fare quell'altra due ore in più di lavoro magari a tarda notte per consegnare chiarissimo e questo invece è il bagno di Cinzia sì di Cinzia di Ratman quindi è leggermente kitsch quindi hai il portasciugamani a forma di labbra il il tappeto il tappeto leopardato e tigrato e tutto il resto perché nella puntata in cui Ratman si incontra con Cinzia questo è il bagno dove a un certo punto entrava da domani tutti osservare i dettagli comici dei crocifissi sì esatto esattamente poi faccio vedere un po' di illustrazioni cioè questo è un gioco sul Titanic sì questa illustrazione è bellissima poi io vabbè sono particolarmente affascinata dalla storia del Titanic non so perché e quindi la trovo bellissima questa illustrazione molto molto bella è stata fatta a tiratura limitata per i cento anni dell'avvento della disgrazia del Titanic ma era incentrato sul valore sugli eroi del Titanic degli utili sopravvissuti quindi è stato fatto con la Serchester Cobbpot su mille copie limitate che poi sono esaurite e quindi questa era la cover del gioco bellissima e anche questa di Bretagne è stupenda questa con questo faro è meravigliosa questa è stata il primo lavoro il primo lavoro ho fatto con Prasentia Games ed era un gioco sui fari anche questo che è andato esaurito però insomma perché il fatto è che quando affronti queste ambientazioni qua poi mi studio tutto l'ambientazione esempio questo era il fari la messa in la messa in sicurezza dei fari della Bretagna del novecento per farla breve avevano nominato i fari in costruzione in tre tipologie Paradiso quelli che erano attaccati alla costa Purgatorio quelli che erano leggermente a favore delle onde del mare e poi Inferno ed è quello che è il faro di Armen che è tipo a tot chilometri della costa tot miglia della costa e quindi il guardiero del faro stava lì sei mesi e poi faceva il cambio ma poteva far solo solo quello tutta la vita e arrivano onde talmente grosse talmente alte che ti si staccavano i quadri dalle pareti insomma come un terremoto eh sì ogni volta wow tra il dire il faro c'è di mezzo il maro di Sinister Timo esattamente sì vado veramente velocissima ah vedi neanche me le ha caricate le altre perfetto c'era un sacco di roba ma OBS ha deciso di tagliarle così lo prendiamo come un segno del destino vi volevo far vedere la copertina di un gioco che sicuramente conoscete tutti c'era tra le immagini ve lo giuro Alan me l'ha mandata ma a quanto pare OBS ha deciso così che è Whitechapel le lettere da Whitechapel sì in realtà ho disegnato e fatto le miniature per non Whitechapel che è ancora le miniature iconiche di legno ma per l'espansione di Whitechapel che è The Art Boss che ti permette di caratterizzare sia le sventurate Jack e i poliziotti e ha anche le miniature come espansione per Whitechapel mentre il figlio più piccolo minore ma non per questo di seconda generazione è Whitehall che a mio avviso riesce a condensare in 60 minuti tutta la bellezza di Whitechapel e in questo caso anche lì Whitehall ho avuto il piacere di fare sia le illustrazioni questa cosa è un po' la maniera dell'incisione del novecento sia le miniature che è stato praticamente il mio primo gioco dove c'erano le mie miniature in plastica quindi sono abbastanza legato per forza di cose sono state le mie prime miniature in un gioco da tavolo e le ultime miniature fatte in analogico cioè fatte con il film quindi per assurdo è un passaggio dal dopo come avete visto sui miei tour di katana che vedevate di render perché sono fatti tutti in digitale poi stampati poi stampati 3D e poi stampati in plastica quindi mold quindi c'è un significato affettivo di diversi tipi tra l'altro sì 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 potente praticamente è stato il primo progetto dove ero omnicomprensivo sia dal punto di vista di illustrazione che di scultura e poi è un bellissimo gioco meraviglioso grazie veramente per tutte queste immagini mi dispiace che OBS abbia deciso di tagliare le altre perché avevo scelto tra tutte quelle che mi ha mandato Alan anche qualche altra miniatura da farvi vedere molto molto interessante cambio schermata nel frattempo ci rispostiamo di qua così ci accingiamo verso la fine intanto c'è ancora il timer il tuo un minuto e quattro di vittoria intanto ti ringrazio infinitamente per esserti prestato per essere stato ospite stasera è stato un piacere enorme quindi grazie 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 sappi che la domanda adesso ti arriverà che ha scelto la chat volevano il racconto del cosplay ma basta eh vabbè non bisogna dare troppo bisogna sempre lasciare una cosa per volta una piccolina una cosa piccolina per volta chiedono e quindi tra le tre proposte il miglior consiglio ricevuto che vuoi lasciare a noi ascoltatori dici legato al mio lavoro oppure in generale ok in generale allora mi piace mi piace questo consiglio qua che non è come dire non è di mia ideazione ma l'ho trovato molto utile anche per me attualmente in quanto in quanto certe volte quando facciamo prodotti artistici o il resto poi ci confrontiamo e magari mandiamo in questo caso curriculum o portfoglio qualsiasi esso sia il campo certe volte quando riceviamo un no lo prendiamo come se il no è il no alla nostra persona ma invece è un no al nostro lavoro che non vuol dire che è un no che rimane per sempre e non è che è un no che non può cambiare è un no in quel momento in quella situazione quindi quando magari si hanno delle rinunce non è detto che tu tra due cinque sei mesi se ti riproponi in realtà poi hai un cambio di questa cosa qua certe volte io magari un tempo dietro quando ricevevo dei no lo prendevo come un no personale perché noi comunque tutti gli artisti mettono comunque tanto nel lavoro e quindi siamo molto simbiosi invece semplicemente non è un no alla persona ma non al lavoro in quel momento sei troppo acerbo quindi quello che capita a game design gli illustratori tutti i musicisti quindi certe volte ricordiamoci che se magari abbiamo delle delle come dire delle delle risposte negative in un determinato momento esatto sono dovute da noi in quel preciso momento quindi possiamo solo migliorare che cosa aggiungere io ti ringrazio tantissimo anche per quest'ultima per quest'ultima perla spero che tu sia stato bene stasera adesso lancerò il ride e manderò il fine live tu non andare via perché ci salutiamo dietro dietro le quinte e ragazzi grazie per essere stati qui scusate l'orario ci siamo allungati un pochino ma era l'ultima puntata serale la mia ultima puntata serale ci rivediamo con me giovedì alle 13 domani a pranzo vi aspetta Silvia e domani sera invece i giullari con la loro ultima puntata serale quindi mi raccomando non mancate io direi che è stata una live con amici di giula Alan D'Amico devo concludere dicendo addio addio amici addio noi ci dobbiamo lasciare basta mando il ride a Intel quindi andate passate a salutare probabilmente loro non vi risponderanno perché stanno ruolando nel mondo della terra di mezzo quindi ma andate a salutare e sbirciare buonanotte l'anima l'anima Grazie a tutti.